I cocktail che fai sono buoni, a priori, ok? Perciò quello è l'ultimo dei nostri pensieri, cioè questo non è nient'altro che solo una gestualità, perciò ti bevi il drink. Bentornati a un nuovo episodio, l'audio ci siamo, sì? Non faccio la solita cosa che non mi ricorda il numero dell'episodio, so che oggi mentre registriamo sta uscendo l'episodio numero 40, magari qua siamo intorno al 45-46, non lo so. Abbiamo un nuovo ospite che secondo me ormai mi avrà preso per uno stronzo perché è arrivato da circa un'ora e non ci siamo detti neanche mezza parola, però aspettavo di iniziare a registrarti per dirti che non volevo dirci cose che potevamo dirci mentre registravamo. Quindi andiamo straight to nell'episodio, ho sbagliato anche, mi sono messo la camicia quella stretta, infatti ho qua sulla scella che mi stringe fortissimo. Detto questo, chi abbiamo il piacere di avere oggi qua con noi? Diego Ferrare. Diego Ferrare, il piacere, sono Carmine. Buongiorno, ho visto l'orario martiniero. Non è un orario da bartender. Allora Diego, subito, piccola cosa poi dopo inizio a raccontarmi, io e te non ci conosciamo, ci siamo conosciuti perché abbiamo delle amicizie barra colleghi in comune e un nostro collega in comune mi ha consigliato il tuo nome che mi hanno detto che sei un personaggio molto interessante, allora mi sono fidato subito e ti ho chiesto di fare un episodio insieme. Io di te conosco solo questo che poi mi spiegherai che cos'è e quindi iniziamo con quello che faccio sempre durante gli episodi di questo podcast. Prima cosa, hai avuto modo di vedere qualcosa del podcast? Assolutamente sì, ovviamente nel mondo del bar, il tuo podcast già si fa notare da diverso tempo e ovviamente anch'io dall'altra parte guardavo con interesse e curiosità tutte le varie interviste di tutti gli amici e colleghi che abbiamo in comune che hai appena citato, perciò anch'io dall'altra parte dicevo ma prima o poi magari mi piacerebbe fare quattro chiacchiere con Carmine e eccoci qua stamattina. Perfetto, allora facciamo una cosa che magari ho paura che non vada bene l'audio e il ragazzo che mi monta i video impazzisce e intanto ti ringrazio, dimmi pure Diego iniziamo l'episodio chiedendoti chi sei, cosa fai? Allora come dicevamo prima appunto mio nome è Diego Ferrari, vivo vicino a Milano, a Lodi, nella piccola provincia di Lodi e attualmente sono il bar manager del Denobl Restaurant & Cocktail Bar che è una realtà purtroppo aperta durante il Covid lì della mia città e ho voluto e mi sono interessato ad aiutare questo mio caro amico di infanzia che ha aperto questo bellissimo locale e sto darmi una mano tra un viaggio e l'altro che mi porta via a fare le mie masterclass e seminari vari in giro per il mondo. Facendo episodi qua del podcast ho incrociato e parlato di molte realtà nate durante quel periodo e molte sono realtà veramente pazzesche, tipo mi viene in mente il dialogo di Brescia, non so se lo conosci di Adrian Christian che è veramente pazzesco, infatti devo andare a trovare lo prima possibile però anche lui ha dovuto fare tutto quello che già è difficile nella vita normale è un recupero continuo cercando di mettere una pezza su quello che purtroppo il periodo della pandemia ha creato all'interno di qualsiasi azienda, perciò buchi, problemi, personale una linearità che poi non si è più recuperata perché è normale che era un falso lavoro alla fine le riaperture momentanee perché la gente non poteva andare in giro per la provincia perciò rimaneva lì e tutti andavano nel locale nuovo però ovviamente appena si sono riaperte ovviamente le porte e le possibilità di andare fuori tanta gente poi non è più tornata non si torna più poche volte, insomma l'hai detto bene, è già difficile nella normalità immaginati se c'è di mezzo a quella frase lì. Ho fatto un episodio con Stefano Righetti che è ritornato, abbiamo registrato, adesso che stiamo registrando, per quando uscirà questo episodio probabilmente sarà già uscito, in cui mi racconta il periodo, un periodo pre, durante e dopo previsionismo e poi durante l'episodio racconta che non è mai finito, che c'è ancora tutt'oggi e in tante cose, guarda, ho i brividi a pensarci, in tante cose nel raccontarmi la storia dico cavolo ma è esattamente la stessa cosa che c'avevamo noi durante il Covid. Stiamo parlando di cento anni fa. Stiamo parlando di cento anni fa e durante, cioè ci siamo trovati esattamente nella stessa situazione, perché tipo mi ha raccontato di, perché tipo il proibizionismo è stato annunciato, nel senso che hanno detto avete un anno di tempo, tra un anno ci sarà proibizione. E in quell'anno di tempo la stessa cosa che a noi è successa per la carta igienica, non se ti ricordi, è successa con l'alco. Certo. Quando hanno riaperto, la stessa cosa che è successa con noi, tutti dal barbiere, tutti al bar, tutti in discoteca. E soldi via, perché ovviamente ne avevi messi da parte comunque qualcosa, perché non uscendo più, non facendo più niente, chi aveva uno stipendio in ogni caso comunque abbastanza regolare, si vedeva fare il suo bel gruzzoletto, infatti viaggi, cene, ristoranti. Non per noi a partita IVA. Non a partita IVA. Non per quella partita IVA, questa è un'altra cosa, un'altra argomento. È vero, è vero. Tu fai parte della famiglia a partita IVA? No, è sempre stata una mia scelta fin dai tempi dei tempi di rimanere dipendente. Credo che è un argomento veramente delicato quello della partita IVA, nel senso che oggi come oggi in Italia le possibilità di poter respirare dal punto di vista economico-finanziario sono veramente poche, soprattutto anche dal punto di vista lavorativo. Un tempo si diceva, voglio avere la partita IVA perché voglio essere il padrone di me stesso, non dover rendere conto a nessuno. Purtroppo non è così. Hai un socio che è lo Stato ed è quello di maggioranza. In più sei schiavo delle regole e dei tuoi dipendenti, che oggi ovviamente ti portano a spesso e volentieri a sclerare perché non li trovi o hanno più forza di te dal punto di vista di contrattazione e magari spesso e volentieri non sono così qualificati come i soldi che poi ti chiedono. Perciò ho visto dal nostro bancone verso la parte del mondo normale tutti questi piccoli dettagli che mi hanno insegnato come probabilmente quello che non dovevo fare per me e ho fatto una scelta. La cosa però non è detto che in un futuro non possa cambiare perché comunque crescendo si evolve in ogni punto di vista, sia sentimentale che lavorativamente parlando, anche a livello di ragionamento e il mondo è bello perché non sai mai cosa ti può succedere dietro l'angolo e questa è la cosa che più mi affascina. E io infatti vorrei fare, lo dico da tantissimo tempo però non lo faccio mai, vorrei fare un episodio dedicato in cui, che durerà ovviamente di meno perché me lo farò fare da un esperto che non c'entra niente con mondo del bar che sarebbe mio padre, che mio padre lavora nella guardia di finanza e quindi poi vabbè, tutto quello che riguarda numeri, economia e soldi lo sa e quindi vorrei fare un episodio con lui in cui racconta, se apri un locale cosa devi fare, le spese che hai, perché c'è ancora molto l'idea, io faccio nel mio ambiente, comunque la mia immagine, io sono a contatto con tanti bartender, non alle prime armi però diciamo che iniziano il loro percorso nel nostro ambiente, quindi spesso mi ritrovo a vedere ragazzi che pensano che aprendosi il locale, soldi, capito? E quindi vorrei fare questo episodio con mio padre che ti dice, sì il locale è, però c'è questo, però c'è quest'altro, come hai detto tu, partita IVA sì, non ho il capo, però tipo io per quello che sono io, io ho un socio al 40%, perciò è. Guarda, io ho un argomento che ho toccato recentemente, questa settimana con diversi miei amici colleghi che si parlava, diceva sai in futuro mi piacerebbe avere il mio ristorante, il mio cocktail bar e via dicendo e io ti ho appena espresso la mia opinione che non è poi così semplice anche perché abbiamo visto tanti datori di lavoro imbarcarsi in queste avventure e poi venirne fuori spesso purtroppo sconfitti. Un'altra cosa che io cerco sempre di far capire che all'estero non è così, cioè tu quando decidi di aprire un locale ti fai bene i conti dicendo ok, quanti giorni voglio stare aperto e quanti servizi mi servono? Per fare tot servizi a un contratto di lavoro ipotetico e 40 ore mi serve due persone, non una, perché ovviamente devo dargli il cambio, c'è il giorno di riposo, ci sono le ferie, più di 40 ore non sono tenuti a fare, hanno due giorni di riposo, non uno come magari qua in Italia, perciò il tuo budget è ok, mi serve tot persone per fare quel lavoro, mi serve tot budget per aprire il locale, mi serve tot budget per il primo trimestre, quadrimestre di cuscino per poter pagare gli affitti, le bollette e gli stipendi. Purtroppo in Italia non è così, tante volte si dice ok, prendo un locale, cerco di l'ho trovato l'offerta, una buona situazione, magari non compri cose nuove ma ex nuove come arredi e via dicendo, personale, ma no ma ce la caviamo, un cuoco, un cameriere, un barman e poi ti pretendono ovviamente di farti fare 100 ore alla settimana, qualsiasi ruolo che non ti compete e pagarti quello che poi è lo stipendio che bene o male in Italia gira, perciò questa cosa dal punto di vista imprenditoriale spesso e volentieri porta poi a quello che è il risultato attuale, ovvero che tante società poi non ce la fanno, perché? Perché tutto questo meccanismo di pensiero non ce la fa, dall'altra parte uno mi può dire ma se fai così allora non apri più il locale e ho capito, però se il rischio è di fallire dopo un danno perché devi essere indebitato non ha più senso. E io spesso, è un pensiero che ho iniziato a fare perché molte volte mi sono trovato a lavorare nel locale, cioè spesso nel locale di famiglia e io ero sia dalla parte del dipendente, non ero io, non ero io il padrone, però dico, però comunque mi è capitato spesso anche di dover ragionare come un proprietario e dico, cioè perché la mentalità non è sempre quella di dire ti faccio l'ora il più possibile ti pago il meno possibile, cioè non è sempre quella, cioè quello che mi hai detto tu prima che ti devi creare il cuscinetto, alla fine l'impressione che io vedendo tanti locali spesso il problema principale che mi dico ogni volta che vado in giro a lavorare perché io come ho detto partita IVA quindi vado in giro lavorando, è che di base è che le attività non sono gestite da professionisti, anche una discoteca, anche se siamo in Italia, anche se mi spareranno in bocca per quello che sto per dire, ci sarebbero dei modi per fare andare in positivo una discoteca, ok? Non è vero che, ma a noi non serve questa qualità nel bar, c'è il discorso stupido, se è il bar massimo posso dargli 90 euro, tu fai una prova, prendi per tre mesi tre bartender che prendono 150 euro netti partita IVA serata, tra tre mesi ti ritrovi, magari con gli stessi drink fatti, ma come mai il triplo della roba in magazzino? Capito? Questa cosa qua? E quindi quello che ti voglio dire è che l'impressione che ho io, a parte che alla base non c'è professionalità nella gestione, è che nei locali è come un andare avanti rattoppando da una parte all'altra, è arrivata la fattura di Moe, ok oggi pago questa a Martini, settimana prossima, capito? E arrivo al falegname, sì intanto ti do 1000 euro, è tutto un rattoppare di una ruota, tamponi, tamponi, ovviamente hai dei soldi in mano, perché i soldi ti arrivano sempre, perciò puoi anche permetterti di vivere al di sopra di quelle che sono le tue possibilità, tu da datore di lavoro, rattoppi un po', che siano fornitori, che siano dipendenti e in questo modo vai avanti, ma puoi andare avanti per mille anni, l'importante è che la ruota non si ferma. Certo, perché se si ferma sei fregato completamente e lì incominci ad andare ovviamente in deficit, perché devi continuare a rattoppare in maniera doppia, perché ovviamente si creano sempre più debiti, però è ovvio che non è che all'estero i locali vanno tutti bene e in Italia vanno tutti male, non è quello che sto dicendo, ci sono delle realtà ovviamente a sé stanti, però all'estero c'è il fattore rischio e più basso, perché partono già quel presupposto, ok serve un milione per partire con tutti i fattori che ti ho detto prima, si parte con un milione, però è anche vero che all'estero hanno più coscienza che se nel primo semestre le cose non vanno bene cercano di raddrizzarle, al secondo semestre se le cose non vanno bene chiudono. Qua in Italia invece ci continuiamo a debitare, debitare, debitare e non ne vieni fuori più. Sono situazioni che sono molto delicate, ovviamente se io avessi la spera di cristallo e sapessi come gestire bene un locale non sarei un dipendente, sarei uno dei ristoratori o bar manager o bartender o proprietario di bar più ricco del mondo, non lo sono, di conseguenza sto facendo il dipendente, però dopo credo 30 anni e passa di esperienza ti fai le tue valutazioni. Posso chiedere una cosa? Perché mi ragiono su di me, perché io spesso nell'andare da qualche parte dico ok vado qua per i soldi, non ho molto da imparare e invece poi mi trovo ad imparare anche in posti dove pensavo no. Dopo 30 anni ti capita ancora di imparare cose nuove? Ho capito una cosa, sopra i 40 anni e l'abbiamo appunto detto prima, i criteri cambiano, cambiano e le valutazioni, il modo di pensare, il modo di agire, il modo di applicare, il modo di interagire cambia completamente. Questa è una cosa importantissima, perciò quando tu vai a confrontarti con qualcun altro hai sempre un modo di crescita e trovare nuove sfide o nuove opportunità dal punto di vista di lavoro, crescita e di confronto. Uno chef che può avere una capacità o meno, un contesto anche dei ragazzi più giovani di noi che ovviamente sono molto più social network e molto più interattivi, perciò un modo di interpretare le varie cose, ma una stupidata, cioè io arrivo da tre anni di Global Ambassador in giro per il mondo, un po' ovviamente mi sono perso dalle nuove direttive di gestione di un locale. Quando sono arrivato qui al Denobble si parlava di inserire The Fork come app di prenotazione, per me sconosciuta, mai usata, mai sentita. Eh perché ero uscito dal giro. Era uscito dal giro. Me l'aveva detto, ricordate dove sei che non voglio farti perdere il filo, me l'aveva detto Flavio Angelino quando ero venuto da qua che dice io adesso non sto più al bancone. Quando mi dicono quali sono i drink che vanno oggi, dico io rispondo ovvio, però io non lo so, perché io non sto più lavorando al bancone, sto facendo altre cose. Esatto, perciò nel momento in cui mi sono ritrovato a confrontarmi con i miei colleghi più giovani che dicevano ma sì ma The Fork è utile di qua e di là, prenotano ISE di qua e di là. Va bene, ha senso, applichiamola, utilizziamola, ha i suoi difetti, ha i suoi pregi, però ovviamente per me era un qualcosa di nuovo. Non è imparare questo, assolutamente sì. Confrontarmi con magari un direttore o un proprietario che ha una visione che fino ai 40 anni sottovalutavo, perché la vedevo più come dipendente o ragazzino, non lo so come esprimerti questo concetto, ma adesso guardo, analizzo, capisco, imparo ed applico. È bella questa cosa, io ne sono troppo contento di essere over 40, perché ho capito quanto sono cambiato e maturato e non c'è una cosa più figa, tanto che hanno paura di invecchiare, di essere obsoleti. È strafigo invece, perché maturi in ogni aspetto. Positivo o negativo saranno gli altri a giudicarci, però questa cosa ti fa capire quando parli con i tuoi collaboratori più giovani, gli dici, guarda, lo so che è il classico detto dei genitori, quando avrai la mia età capirai. Io che ho qualche anno in più di loro, magari dico, quando vedrai che entrerai in quella fascia di età, avrai un modo di vista diverso. E qui mi collego a una delle mie frasi preferite, che mi è sempre stata citata da un mio caro amico, ex datore di lavoro, fotografo del mio libro, mi diceva sempre, devi imparare a guardare le cose da un diverso punto di vista. Tante volte riesci sempre a trovare la soluzione, semplicemente spostandoti e analizzando la cosa da un altro angolo. Io così ho fatto il corso, il mio lavoro principale sono i corsi, il corso che va di più mio l'ho fatto quando, cioè l'ho strutturato quando ho deciso di non guardarlo dal mio punto di vista, ma guardarlo dal mio punto di vista. C'è un detto che dice se vuoi diventare un grande, sali sulle spalle dei grandi e guarda quello che fanno loro, no? Perché ovviamente ti devi ispirare. È normale che se ti compari a persone o aziende o altre attività meno qualitative o di successo, non puoi imparare. È normale che se vai in moto cercherai di ispirarti ai più grandi piloti del mondo. Se sei un calciatore, idem con patate. Se sei un mixology, uguale. Se fai una cosa come quella che stai facendo tu da tempo, ti ispirerai a persone che hanno più capacità, più attrezzatura e incomincerai a dire, ok, loro hanno fatto questo format. Funziona. Non dico che devo copiarlo, ma devo ispirarmi perché ovviamente nessuno nasce imparato. Infatti il podcast a cui mi ispiro ha vinto il premio come podcast dell'anno, perciò. Certo, vedi che va a pennello. Tu devi guardare, metterti sulle spalle dei più grandi, guardare quello che guardano loro, la loro direzione. E così impari. Non c'è alternativa. Il quotiente intellettivo non si cresce stando, tra virgolette, insieme a persone con una cui inferiore, ma si evolve nel momento in cui ti confronti con persone superiori. Perciò noi che a livello darwiniano abbiamo un concetto di o ti evolvi o muori, ci adattiamo e il nostro cervello incomincia a pensare o replicare il modo di pensare delle persone più intelligenti di noi. Un'altra cosa che, parlando della crescita, quando io pensavo di non crescere, che mi è capitata molto nei locali dove magari sono ragazzi molto più giovani, ed è una cosa che ho maturato io negli ultimi periodi, veramente, è quella di prenderla sempre in modo professionale, però nel senso sono consapevole di essere cresciuto tanto nel voler e voler che si crei la situazione di divertimento anche per il personale. Perché io ho lavorato per dieci anni in un locale molto preciso, tutti vestiti bene, tutti precisi, tutti sempre cordiali, sinceri, distaccati e invece… Un po' freddi. Un po' freddi, sì, però super professionali, capito? Quindi magari non ti scappa mai il sorriso e così, invece mi sono reso conto nel tempo, soprattutto nel locale dove mi capito di lavorare d'inverno, che la mentalità che avevo l'anno scorso, tipo vedendo i camerieri, sempre che si diverte, sempre faccio… Dico, quando facevo io il cameriere? Il mio obiettivo era far fare più bottiglie, il mio obiettivo era trovare il modo per lavorare di più e invece… e dico, però magari sì, facevo qualche bottiglia in più, però non c'era quell'atmosfera che crea questo locale, capito? E ti fa tornare il cliente con serenità. E infatti quello che, tipo, nel lavorare mi trovo a… sai che spesso nella maggior parte dei locali italiani che sono cocktail bar, discoteche, ristoranti, il personale tra di loro, c'è sempre quello lì che borbotta, che c'è questo non mi piace, io sono arrivato prima, io che pensano, che pretendono che sempre… e io dico, cioè se tu vieni qua già con questo… tipo in un locale che lavori solo il weekend, in cui la maggior parte delle persone viene perché o studia o perché deve arrotondare il proprio lavoro, ok? che dico, ma se tu vieni qua già con questa mentalità, stai già sbagliando… La vivi male… La vivi male… tu devi venire qua e tipo, eh Carmine, però ho pulito tutto il bar, tutte le postazioni pulite, ho fatto i carichi, tutte le bottiglie precise e nessuno da quattro mesi mi dice niente… ma tu non devi farlo perché ti aspetti che quello viene da te… Bravo, hai caricato bene le bottiglie, il bar adesso è pulito, bravo, complimenti… perché se tu lo fai con quella mentalità lì, stai già sbagliando, cioè qualcuno ovviamente… tipo da quando sono arrivato io in questo posto il modo di lavoro è completamente diverso, ma io non mi aspetto che viene da me l'amministratore delegato e dire signor Liguori, adesso che c'è lei il locale è tutta un'altra cosa, ma non mi interessa neanche, capito? E dico, tu devi venire qua, il tuo interesse deve essere divertirti, divertirti ovviamente mettendo la tua professionalità a disposizione, però se alla base non c'è il tuo divertimento, non si crea quell'atmosfera che poi la gente sente, mentre tu fai da bere, che vedi la ragazza o il ragazzo che è lì così… capito? Tu stai facendo… io sto facendo da bere, cosa devo fare? Sì, ma non lo stai mettendo a suo agio, capito? Se tu lavori guardando qua dentro, lui è libero, infatti c'è un muro qua, il drink, cioè vi connettete perché gli passi il drink e basta, ma se tu lavori guardandolo, tutto bene, fai un sorriso, cioè siete già a contatto, crei già un'altra atmosfera, capito? E quindi questo è quello che mi sono reso conto io crescendo, magari mi sono reso conto troppo tardi che adesso quello che mi interessa di più a me è quasi di più il fatto che ci sia connessione e che ci sia voglia di divertirsi, poi sulla professionalità ci possiamo lavorare, ti posso dare una mano, capito? Ma infatti è un punto abbastanza importante, credo che fin da quando ero abbastanza giovane ho avuto la fortuna di avere qualcuno che mi ha fatto capire un po' questa cosa. Il cliente spesso vuole venire in un ambiente sereno, vuole arrivare in un ristorante o un cocktail bar per rilassarsi, non vuole vedere tensione, non vuole vedere musi duri da parte del personale. Ovviamente la nostra intelligenza è interpretare se il cliente ha voglia di essere interattivo con noi o no. Ma quello che ho imparato è che spesso e volentieri se ci metti un po' di humor e di simpatia all'interno del servizio, il cliente incomincia a vedere il tuo lavoro in maniera differente. Oltre questo una cosa che mi ha sempre insegnato, mi hanno insegnato i miei maestri è che tu devi dare per scontato che cocktail che fai, perché noi parliamo di cocktail perché facciamo i banconisti, alla fine siamo dei mestieranti del bar. I cocktail che fai sono buoni a priori. Perciò quello è l'ultimo dei nostri pensieri. Cioè questo non è nient'altro che solo una gestualità. Perciò ti bevi il drink. Ma è tutto il resto quello che il cliente piace. Cioè il venire da te, fare due chiacchiere, non è importante quanto paga. Ovvio se il drink fa schifo non va bene. Ma io do per scontato che se lo stai facendo come lavoro i tuoi drink sono buoni. Perciò io non critico mai nessun barman del tipo non sa fare da bere. No, per me come gli chef, come chiunque lavora, se fai quella cosa do per scontato che sei bravo. Ma nella mia posizione a livello del lavoro è questa ha un'importanza, sì, ma non è tutto. Il nostro lavoro è ben oltre. Ma ben ben oltre. L'ospitalità, la pulizia, la gestione, i costi, il sapere avere uno spirito di squadra, fare sentire proprio agio i nostri collaboratori, far sentire a suo agio il datore di lavoro. I proprietari del locale è normale che se si appoggiano a dei professionisti si aspettano che il professionista dia un certo livello servizio e anche serenità al datore di lavoro. Immaginati appunto tu che sei il proprietario di un locale, se sai di avere una certa fiducia con il tuo chef, il tuo maître, il tuo barman o bar manager, questo ti porta a una serenità dal punto di vista di dire non è che quest'oggi ho altri problemi, minchia, questo qui mi fa impazzire per quello, lo chef mi fa impazzire per l'altro. Ci saranno sempre queste cose. Non è che stiamo parlando di cose aliene. Quindi è normale che queste situazioni ci siano. Però è ovvio che la nostra impostazione professionale deve essere quello. Perciò il drink non è nient'altro che l'interpretazione di quello che sappiamo fare da anni. Punto. Basta. Io lo collego al grafico di FIFA. Il drink è una cosa. Tipo c'è velocità, dribbling, potenza. Assolutamente. Il drink io lo metto in una voce. Certo. Poi c'è tutto il grafico. Quante volte ti capita di vedere, entriamo nel mondo degli chef. Gli chef che ce la fanno diventano delle star, ma non perché vanno in televisione. Ce la fanno perché hanno capacità, riescono a mandare avanti dei ristoranti, diventano famosi, vanno sui giornali, vanno anche in televisione e tutto. E ci sono tanti chef o cuochi che non ce la fanno. Io continuo a dire che la differenza è perché lo chef che ce la fa è quello che guarda oltre la porta della cucina e sa interpretare le necessitudini dello staff, del cliente, del datore di lavoro. Per noi è la stessa cosa. Se noi ci fermiamo alla parte del bancone finale, perciò pensiamo solamente alla nostra seghina mentale da bartender, di fare l'home made, le infusioni, tutto quello che ne sia e ne compete. E il nostro focus è solo ed esclusivamente questo, ma non ci rendiamo conto che magari abbiamo delle peculiarità lavorative o di gestione che non abbiamo ottenuto per esperienza, ci mancherebbe. Questo è un problema. Infatti, anche qua, bella frase che mi piace, se fossimo tutti dei campioni, oggi come oggi, lo standard sarebbe troppo piatto. Abbiamo bisogno che ci siano delle persone che, ahimè purtroppo, fanno fatica e non ce la fanno e persone che invece ce la fanno a fare il loro lavoro e che si distinguono e che poi portano la massa a seguirli. Mi interessa un sacco questa cosa, stiamo parlando di cose che mi piacciono molto. Come hai detto tu, ci sono situazioni che poi si vengono a creare. L'impressione è che, anche se il locale va bene, però col passare del tempo, poi c'è sempre quel paio di personaggi o quel personaggio che poi infetta tutti gli altri. Eh sì. Io sono qua da stamattina. Eh sì, sì, sì. Una negatività. Capito? Dico, quello che cerco io dico, perché devi viverterla così? Cioè, stiamo facendo una roba bellissima. Cioè, me ne sono reso conto io, l'ho detto un miliardo di volte e mi faranno la critica perché la dico di nuovo. Io mi sono fatto otto anni in un locale, otto anni, sempre incazzato. Sempre, sempre, sempre perennemente incazzato. Fuori era, però dentro ero sempre incazzato. Dico, poi mi trovo a discutere, non mi ricordo con chi, e mi fa, parliamone. Abbiamo parlato e abbiamo risolto in un'altra situazione, in un altro locale. Dico, però, cavolo, io mi sono fatto otto anni incazzato come una iena. Se alla seconda volta che una cosa non mi andava bene avessi detto, ne possiamo parlare per favore, l'avrei risolto e mi sarei fatto cinque anni felice. Felice, felice. Certo, soddisfatto e poi, se tu non stai bene mentalmente, porti questo malumore nella squadra e in quello che tu fai. Perché non c'è più entusiasmo nella piccola cosa che, come hai detto prima nel grafico di FIFA, è uno dei punti, ovvero il tuo dream. Perché non stai trasmettendo qualcosa. Se hai serenità, tutto esce bene, vai al lavoro meglio, affronti le cose meglio. Ma ribadisco, questo lo trovi, lo scopri con l'età, con la maturità lavorativa che arriva solo dopo tanti anni e che capisci, in automatico forse, l'evoluzione, come è meglio affrontare la cosa. Guarda che io prima di ritornare in un locale, ti citavo appunto prima la mia esperienza, ho fatto tre anni da Global Ambassador e accettai di andare a fare il Global Ambassador perché io ero arrivato alla saturazione massima della sopportazione del nostro lavoro e dei clienti. Io ero arrivato al punto che impazzivo già solamente perché un cliente entrava e non mi diceva buongiorno. Non ce la facevo più. Sorrido perché ti capisco bene. Arrivato a quel punto mi sono reso conto che non mi apparteneva più questo mondo. Quindi, ecco, il bello del mondo è meraviglioso, non sai mai cosa ti può succedere dietro l'angolo. Arriva questa azienda importante, globale, mi fa un'offerta, accetto. I tre anni che poi sono stato con loro sono stati anche meravigliosi dal punto di vista di setup o reset mentale. Perché in quel momento entravo over 40, incominciavo a maturare, vedevo le cose da un diverso punto di vista e deciso di terminare con quell'azienda, sono stato a casa qualche mese perché avevo voglia di godermi un po' di tempo meritato e ho accettato questo progetto dai miei amici di Lodi perché credo che ero in un contesto meraviglioso dove vicino a casa, serenità, non più pressione, tornavo le origini. E questa è una cosa che secondo me è essenziale. Non devi pensare perché hai vinto un premio, un incomio o una classifica o essere il top dei top nel tuo settore che da quel momento in poi gli altri ovviamente ti possono solamente lucidare le scarpe. Io tutte le volte che ho avuto un premio internazionale, un incomio o quello che sia, il giorno dopo tornavo nella mia piccola frazione di periferia, la frazione si chiama Casellario, vicino a Lodi, sul fiume Adda, 20 metri la mia ex casa dal fiume Adda. C'erano due case, mio nonno e i miei genitori, un ristorante e una chiesa, ok? La pace assoluta dei sensi. Io ogni qualvolta che ottenevo un risultato molto alto nel mio lavoro o mi sentivo perso in qualche modo nel mio lavoro, la prima cosa che facevo era andavo là, stavo là qualche ora per due o tre giorni e la mia mente si resettava e mi faceva sempre capire che le tue origini sono qua. Tu sei, e questo lo dico con affetto perché io mi reputo un campagnolo tra i campagnoli. Perciò ricordati sempre che se anche diventi il top dei top, le tue origini arrivano da lì. E questa è la cosa più figa in assoluto perché ti porta a abbassare le ari. Sai che da noi si dice Vula bas estrusa il sass, perciò Vula basso è rasente i sassi. Non ti dare le ari. E questo è secondo me un esercizio di umiltà che tanti dovrebbero fare. Perché alla fine siamo tutti mixologi, bartender, non salviamo vite, non operiamo bambini a cuore aperto, non scendiamo l'atomo, perciò non stiamo andando a cambiare il mondo e non andiamo nelle miniere a lavorare. Stiamo facendo un lavoro che è mentalmente importante perché ovviamente dobbiamo dar retto a molte persone, soprattutto quando incominci a fare seminari e cose di questo genere e tutti gradiscono la tua attenzione e tu devi essere sempre sorridente con tutti. Perciò torniamo a casa stanchi mentalmente, anche fisicamente stiamo in piedi tante ore, però io non mi posso comparare al mio babbo che si alzava alle 5 di mattina, andava a lavorare in edilizia, tornava alle 7 di sera, 6 giorni alla settimana e oggi è tutto rotto perché ha incominciato a lavorare a 9 anni. Cioè noi facciamo veramente la vita di russo. Adesso con quello che ti dico capisci perfettamente che io la penso esattamente come te. Io nel weekend spesso lavoro in questo locale di Gabergamo che è una discoteca perché per come lavoro io l'unico posto a cui posso dare disponibilità è una discoteca. E mi è capitato, è stato Bar Italia un mese fa, è stato Bar Italia a Brescia e Bar Giornale mi ha chiesto di partecipare come giudice d'onore per una batteria e anche io ho fatto il vlog dell'evento, per come faccio io queste cose a modo mio, io ho fatto il vlog dell'evento. Ed è capitato a partecipare come competitor a un ragazzo che viene spesso in questa discoteca che non mi conosceva, cioè mi conosceva perché mi vedeva in questa discoteca a lavorare. e mi vede lì però mi vede una situazione diversa, mi vede che Stefano di Bar Giornale mi chiede l'intervista, comunque mi considera, vede che conosco tutti gli altri giudici d'onore, vede che mi mette super in imbarazzo la cosa però è bellissima, vede che delle persone mi chiedono la foto e così via. Certo, normale. E mi fa, Carmine ma io non sapevo, cioè come mai lavori, perché lavori in questo vlog, perché lavori al Costezzi? Io lavori perché mi diverto, perché mi piace. Esatto. Cioè, eh ma ho capito però fai, cioè tipo uno come te, capito questa cosa uno come te, ma cosa vuol dire? Io ci vado perché mi diverto, vado perché è bellissimo, io ho fatto, l'ho detto anche questo tante volte, io ho fatto un periodo non lavorando più, ma mi mancava. Io, ovviamente mi piacerebbe lavorare in un cocktail bar, però un cocktail bar ha altri bisogni, che io non posso dirgli, io ho i miei impegni e devo andare. Assolutamente. La discoteca ha più facilità di lasciarmi per i fatti miei, però dico io in questo locale vado, perché mi diverto un sacco. Faccio vodka lemon? Sì. Faccio 200 drink in una sera? Sì. Ma mi diverto un sacco, mi piace tantissimo. Mi piace vedere, la cosa che mi spinge tantissimo è vedere come i ragazzi che lavorano intorno a me migliorano stando con me, capito? Eh sì. Tipo, esempio stupito di quest'ultimo weekend. Lo sono stato io, colpa mia, non l'ho fatta apposta. Nel cambiare la tonica, non il bagging box, la bombola. Ok. Nel cambiare la tonica, nel rimetterla lì dentro, quella piena, ho toccato dentro il tubicino di un altro e si è rotto. E quindi dico, domani c'è da mettere a posto questa, se no questa spina non funziona. spina. Il giorno dopo mi sono dimenticato, non io, chi doveva farlo, mi sono dimenticato, non ho chiamato. Stasera non funziona la tonica con questa spina. No. Oh Nico, non è successo niente, non funziona la spina. Amen. Infatti, c'è solo un solving. Ci sono io qua, stiamo insieme. Non funziona la spina, succede, sei dimenticato. Amen. Cioè, se ti cazzi non cambia niente. No, 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 no. E' importante comunque avere anche una certa serenità nel risolvere, di analizzare quale è veramente un problema e quale non è un problema. Cioè, tante volte anche qua la maturità lavorativa, lo ripeterò ancora, ti fa capire che i problemi sono diversi e vanno risolti in maniera differente. Cioè, anche quello serve quando ti mettono a fare il bar manager, l'F&B e tutto. Arrivi a farlo quando hai una certa età perché sai come poterti atteggiare per risolvere i problemi. A me purtroppo quando si è giovani non hai ancora quell'esperienza. Ed è giusto che ci sia un piccolo percorso di lavoro per arrivare poi a essere quella persona. Perché come nel tuo caso non è un problema, lo risolviamo comunque. Se ti fai prendere dal panico, dall'incazzatura, non arrivi da nessuna parte, fare una serata del merda e i tuoi clienti lo sentono, lo capiscono. E' vero che loro sono lì per ballare, tu sei l'ultima persona che ti interessa. Però alla fine siamo lì per dargli da bere e per contribuire a farli divertire. Se già arrivi e c'è la faccia o rispondi male, la persona si piglia male e dice che cazzo sono tu qua per divertirmi. Vabbè scusa. Poi il giorno sbagliato c'è per tutti, non siamo robotte, anche se dicono tutti quello è un palcoscenico, tu sei un attore che entra sul palco. Vero? Fino a un certo punto, anche noi siamo umani, abbiamo anche noi i nostri problemi di vita. E dipende come sei fatto. Esatto, e poi dipende molto come sei fatto e come affronti questa cosa. A me spesso molti miei colleghi mi dicono che se mi esplodesse una bomba di fianco io rimarrei lì, tranquillo. Ma è normale, ognuno ha i propri punti deboli a livello lavorativo o di carattere. Magari siamo un po' più sotto stress di un altro giorno e magari esplodiamo per una piccola stupidaggine e invece ci sono giorni che potrebbero tranquillamente romperti le scatole dalla mattina alla sera e tu sereno come un Buddha. Non c'è una regola aurea, ma dobbiamo cercare di arrivare a ottenere questa serenità, perché sennò non andiamo fuori. Noi siamo dei punti cardine, perché se il barman in un locale risponde male al collega è come uno chef. Nel momento in cui lo chef è teso la sala va in palla. Adesso nel dirmi tu questa cosa mi è venuta la sensazione di quando io ero in sala che entro a prendere il piatto, lo chef risposta male noi tutti. Eh sì, però tu entri e vai in sala. Chiara? Chiara, guarda cosa? Con una parola... Vai in sala e vai subito in tensione. Poi la tensione si propaga tra tutti i colleghi e non ne vieni fuori. quella purtroppo è una situazione che capita sovente in tutti i locali. Io parlo spesso di ristoranti e di cocktail bar perché le mie esperienze generali sono sempre arrivate tra ristoranti. mi piace molto quando c'è una realtà di bar affiancata alla ristorazione. Grazie. Perché mi da... Mi piace il confronto con lo chef, mi piace la cucina anche se poi a malapena riesco a fare un nuovo al... Uguale io. Però la cucina ti ispira comunque. Però mi ispira e mi piace il confronto con lo chef stesso. Quindi ho sempre cercato di lavorare con i due ambienti. Perché credo che arricchisca entrambe le parti oltre che a essere complementare. Un cocktail bar puro, nudo, crudo, senza cibo è come se mi mancherebbe un arto. Perché non credo che oggi ha una realtà anche dal punto di vista economico molto semplice. Io negli ultimi anni, girando spesso per lavoro, una delle cose che più mi piaceva confrontarmi o meglio valutare era non quanto se il tuo cocktail era buono nel tuo bar, ma se il bar food era di livello. Qui mi viene in mente Andrea Castellari, non so se lo conosci, che lui ha... il suo locale è Zizzania, Milano, con una Z sola. Ok. E lui mi fa... la nostra cucina non è grande però la facciamo. Eh. Perché Zizzania è una tipologia di riso infestante. Ok. Quindi il... spero di non dirlo sbagliato, ho fatto anche un post. Creare Zizzania con due Z viene da questa tipologia di riso. Zizzania che è una tipologia di riso infestante. Ho capito. Quindi da lì viene fuori il detto creare Zizzania. Perché Zizzania? Perché loro fanno riso. Ok. Quindi fanno i loro drink e i drink associano anche i loro... non piatti, è tipo un pairing o così però comunque... Ma hai notato come si è evoluta questa cosa negli ultimi anni? Sì. Ovvero di quanto il bar food sia una cosa importante all'interno del cocktail bar. Se analizzi gli anni precedenti il bar food era... non era importante. Cioè non aveva... ma proprio zero importanza. Oggi come oggi chi va al bar ha sempre più la tendenza di dire ma cosa posso stuzzicare? E arrivi con il tuo bar food menu e hai magari che ne so le alettine piccanti, l'affettatino o del formaggino o un sandwich particolare. e quando lo... poi con l'asiatico, ciao, le bao e via dicendo. Oggi come oggi questa cosa mi fa impazzire. E anche qui vedi la mia mentalità era cambiata. Prima me questa cosa non mi intusiasmava. Io davo sempre il concetto se bevo bevo, se mangio mangio. Perciò le due cose sono separate. È una cosa anche molto italiana secondo me. Sì, bravo, bravo. Invece probabilmente viaggiando mi si è aperto tutto il mondo, la mente. E quando vado nei cocktail bar, tante volte, ma anche nei cocktail bar più blasonati del mondo, mi fanno il cocktail e io la prima cosa che dico è che mi fa stuzzicare qualcosa. Magari c'è quel sandwich, quella aletta, qualsiasi cosa. Me ne portano e io incomincio a godere. E spesso e volentieri magari prendo gli amici, i proprietari, i colleghi e dico questo era delirante. E li vedi soddisfatti. Perché danno già per scontato che questo prodotto che loro fanno sia buono. E io, idem, lo assaggio. È buono. Ma, piccola parentesi, è rara l'occasione che mi porta a dire questo cocktail è il migliore del cocktail che ho bevuto al mondo. Forse perché lo facciamo per lavoro. Semplicemente mi piace o non mi piace. Niente di più, niente di meno. Se non mi piace non è colpa tua. È il mio palato. Ma il cibo, forse perché siamo italiani e abbiamo la cultura molto importante del cibo. È il momento in cui mi arriva un piattino da assaggiare e dico mamma mia che buono. Poi piglio il tipo e gli dico magari guarda questo sandwich, l'aletta e quello che era. Era delirante. Buonissimo. E tu gli leggi negli occhi la soddisfazione. Perché tu stai dandogli merito di una cosa che per noi che facciamo da bere è laterale, non è il nostro lavoro. e se fai un compimento del genere il proprietario del locale o il manager ti dice cavolo che bello, ho fatto qualcosa che non è dato per scontato che sia buono che è il mio drink, ma è qualcosa di cui non ne sono padrone, ovvero creare un cibo, ma la mia cucina mi sta dando soddisfazioni. E un collega se ne rende conto. Non è neanche la cosa in cui, tra virgolette, ti senti preparato. No, esatto. Cioè se ti dico il cocktail era buonissimo, tu non hai emozione in quel momento. Tu dici grazie, grazie, mi fai piacere. O stima di te e dico cavolo, però comunque finisce lì. Sì, ma sai, te lo dicono in tanti, è buono il cocktail, grazie. Ma se nel momento in cui il tuo locale è preparato su quel format e in più gli dai anche qualcosa da mangiare e quel cibo è fuori di testa e ti fanno i complimenti, quindi ti esalti e dici cavolo. Allora sono sulla strada giusta. Mi sta capitando di trovarmi in questa situazione con questo podcast, che vabbè non ci conosciamo, non so se lo sai o no, però io vengo dal mondo del flair. Sì, sì, assolutamente. Io sono un flair bartender, ho avuto una discreta storia nel mondo del flair e mi capita e mi piace questa cosa, non è che mi offendo, di persone che mi dicono, tu sei quello del podcast, ti seguo su tiktok, bellissimo il podcast. Ma non sapevo che facessi flair, capito? Cioè non mi offende, però... No, certo, una visione differente. Però mi dà un sacco di orgoglio, dico cavolo, perché se uno mi conosceva, nel mondo del flair sono abbastanza conosciuto, ma se uno non sa niente del flair, non sa neanche che io fai, quindi vuol dire che ne vale la pena, perché tantissimi che mi seguono, lo so, hanno iniziato a seguirmi perché mi conoscono personalmente o mi conoscono da flair bartender e quindi perché sono affezionati mi seguono anche di qua. Però se uno arriva soltanto dall'altra parte, dico, allora vuol dire che... Sto facendo... Come hai detto tu col cibo, allora vuol dire che lo sto facendo bene. Io invece la trovo divertente perché non lo faccio per lavoro i reel di cocktail e via dicendo, ma ogni tanto mi diverto a farli con uno chef abbastanza famoso nei social network che era il nostro vecchio chef dove sto lavorando attualmente all'Enoble e lui ha preso passione nel filmarsi facendo le ricette e sta sfondando dal punto di vista di social network. Ogni tanto, visto che ha una certa stima nei miei confronti e io anche nei suoi, mi invita a casa sua e facciamo cibo e drink. C'è qualcosa sul tuo profilo in questa cosa? Sì, 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 lo si vede completamente. Sì, sì, ho visto, visto. E alcuni video hanno fatto anche 2, 3, 2 milioni e mezzo di visualizzazione, ma non grazie a me. Ovviamente non grazie a me. Io lo faccio solo per divertimento e perché poi scrocco un fantastico piatto fatto dallo chef. E lui ovviamente la mette dall'altra parte perché così almeno si deve un drink da me. E questa cosa, spesso mi è capitata di dire, ma clienti che mi conoscono da una vita, che vengono a farmi Oh, bello il video che hai fatto con lo chef di qua e di là nel cocktail, l'ho visto il cocktail. Ma figa, ma questo cocktail l'avrei bevuto 7 volte qua da me e ti rendi conto solo adesso che hai visto nel video. Cioè, è divertente la cosa, no? E la vedo solo come un divertimento. Per me non è né una questione economica, né una questione di pubblicità. Non è il mio lavoro. Ecco. Però mi rendo conto di come effettivamente questa realtà, dai podcast ai reel alle storie ai social network, Il social bar. Si, diventa una cosa effettivamente che ti cambia il marketing del tuo brand, nome o locale o quello che sia. Perché comunque è incredibile come in un secondo l'opportunità di poter espandere una nuova clientela, una nuova potenzialità di followers, arrivi dal niente. Quello di cui parlavamo prima, di registrare, che tu mi hai chiesto se ero stato allo Stadlin, lo Stadlin di Roma. Lo Stadlin per me dovrebbe essere preso dai locali italiani veramente come un esempio di marketing assolutamente d'accordo. A me capita di gente che non conosco, gente che incontro in giro che mi ha visto allo Stadlin, che magari mi ha visto su TikTok allo Stadlin. Dice, ma allo Stadlin com'è? Ovviamente è un locale serio, i bartender sono professionali, c'è Daniele Arcello al bancone che diciamo è il cardine, che è il top. Quindi di base c'è professionalità e tutto. Però se tu materialmente vai lì, se tu sei di Roma oppure se ci vai tu, ok? Tu Diego, ci vai lì. Lo Stadlin è un locale normale. Normale? Normale, ha molta affluenza e tutto, ma lo Stadlin è un locale normalissimo. Che sì, è bello e tutto quanto, però non è un locale che entri e fai, oh mio Dio. Un locale come tanti altri nel mondo. È un locale normalissimo che però, come dicono i ragazzi dello studio mai giù, che magari vedrai l'episodio, loro si occupano proprio di questo. Lo Stadlin, tramite anche Luca, tramite i ragazzi che ci sono dentro, ha capito come andare oltre l'entrata del proprio bar. Sono pienamente d'accordo. Ho avuto modo di parlare con i proprietari, i ragazzi, i fratelli che mi hanno ospitato per una guest masterclass da loro. Era tra virgolette, non dico l'inizio, ma più o meno della loro evoluzione dal punto di vista di marketing attraverso il social network. E si stava parlando con loro di questa cosa e gli facevo appunto i complimenti perché loro sono, come hai detto tu, un locale che potrebbero essere presi assolutamente d'esempio su come andrebbe gestita il marketing. Infatti loro mi dicevano, guarda che da quando abbiamo incominciato tramite YouTube e poi Instagram, poi c'è Luca e tutto, il locale ha incominciato a lavorare in maniera esponenziale. Ma è giusto che sia così. Ovviamente l'età che poi va, l'età media che va da loro a bere, sono tutte persone che frequentano i social network varie ore al giorno. Ma io stesso ogni volta che guardo un video di Sadrian, di Luca, di Daniele, sono lì a guardarlo e a sorridere e a commentare o mettere un like. Perché per me è un esempio, un esempio di come un locale dovrebbe sapere sfruttare i social. Ovviamente non è così semplice. Loro probabilmente hanno trovato o si sono trovati nel momento giusto, nella posizione giusta, con le persone giuste per poterlo fare. Oggi come oggi, nella gestione di un locale, e penso che anche tu sarai d'accordo con questa cosa che ti sto dicendo, il ristorante e il cocktail bar non sono più aziende con delle barriere, dei muri limitati al passaparola, la gestione fatta, ma sì facciamo la serata così una volta ogni tanto. Oggi la gestione dei social network e del marketing, se non è fatta con consapevolezza e una programmazione a medio termine, o vuol dire un mese, due mesi, tre mesi, con una programmazione lavorativa delle serate, degli eventi, l'annunci, la pubblicizzazione, tutto, con tempo debito, sei fregato. Tu oggi la gestione di un ristorante e un cocktail bar deve essere fatta all'80% in ufficio di giorno, confrontandoti con la giusta agenzia di social network, con i tuoi giusti PR, con i tuoi capi reparto, chef, sala e barman o bar manager, per creare un percorso che sulla carta si sviluppi, e poi la sera non è nient'altro che la celiegina sulla torta, ovvero l'orchestra che suona con un maestro che ha dettato tempi note e un testo ben definito seduto a un tavolino. Oggi così si gestisce un locale, tu devi avere programmazione e non è facile a volte trovare anche l'agenzia social network che ti segua nella giusta maniera. È difficile anche trovarla seria, c'è ancora molta confusione. Assolutamente d'accordo. Infatti una delle cose che pensavo io, soprattutto dopo essermi fatto una bella chiacchierata con Luca, con Luca Elpe, è di... Che salutiamo, ciao Luca, ti vogliamo bene. Ciao grande Luca. E è che, come hai detto tu, che a te piace cambiare ogni tanto quello che fai nel tuo lavoro, io sono uguale, nella mia, io mi sono dato un limite di altri 3-4 anni in cui lavoro in questo modo così, però anch'io stavo pensando di intraprendere quel tipo di lavoro dopo, nel senso di magari, non so se aprirmi un'agenzia, iniziare a lavorare per un'agenzia e cose varie, perché spesso all'interno di soprattutto locali anche grandi, vedo che la gestione di certe cose viene data a persone che l'obiettivo è quello da... O non viene data. Non viene data, oppure l'obiettivo di chi ce l'ha in mano è quello di riuscire a prendere più soldi possibile, per più tempo possibile e basta. O l'autogestione, parliamo dell'autogestione. Ma non puoi farlo tu, che sei un po' bravo con i social, ma no. Cioè, nelle mie parti si dice, ogni frega il suo mestè, ogni fabbro il suo lavoro, no? Perciò è giusto che chi sa farlo lo faccia e lo faccia bene. Io ti posso dare il materiale, cioè il mio profilo personale è limitato a certe cose, ovviamente. non posso mettermi anche a fare tutto il social network, seguire le varie cose. Già lo facevo, lo facevo quando ero l'ambassador per questa azienda, mi occupavo anche dei social network e lì ho imparato un pochettino a fare certe cose, ma non ho la dimistichezza per poter fare il lavoro professionale che dovrebbe fare qualcun altro, ovviamente. Una cosa che ti volevo dire prima, però ti ho lasciato parlare, mi è data di mente mille volte, parlando delle guest, parlando dell'atmosfera che si cerca di creare. Io da Flair Bartender o noi da Flair Bartender, quando facciamo guest in giro, siamo facilitati dal fatto che appunto facciamo Flair, quindi a livello comunicativo, tra virgolette, tra virgolette ovviamente, possiamo avere di più un deficit, nel senso che tanto io, il drink è buono, come dici tu, il drink di base deve essere buono, però io comunque ti intrattengo facendo i miei movimenti, facendo cose spettacolari e tutto. Però nella guest invece, come magari quelle che vai a fare tu, quelle che fanno tra virgolette Bartender che non fanno Flair, che comunque tutti fanno Flair, in modo diverso tutti fanno Flair, è molto importante la parte umana, la parte comunicativa, perché io sì, mentre siamo lì che faccio i miei drink ti faccio Flair e quindi ti intrattengo in un modo, però uno che non fa Flair deve avercela per forza dentro, il fatto di aggrapparsi al cliente, il fatto di intrattenere il cliente, perché non ha modo di lanciare cose come facciamo noi, quindi deve spingere in quella qualità. Quindi nella guest soprattutto, che io lo vedo spesso, dico, per me una guest è facile, ok? Io adesso sono grande perciò riuscirei a farla anche senza Flair, però dico, per me che faccio Flair, la guest è facile, per un ragazzo che fa solo drink e che deve comunque intrattenere il cliente è molto più difficile, come mi dicevi tu adesso di Atene, che ti piaceva l'atmosfera che si crea ad Atene per la guest. Assolutamente. Io l'ho vista sia di persona sia su Instagram, sui social, dico, vedi, il bartender è bravo, il drink per scontato è buono, ok? Ma usa il suo infuso strano al parmigiano reggiano, ok, va bene. Però come dici tu, due minuti dopo è buono, non te lo ricordi già più. Però è tutto il resto che questo qua deve avere per far sì che la guest sia bella? Eh sì, è ovviamente un intrattenimento che può essere ovviamente gestito su diversi fronti, che è dalla serata, l'intrattenimento visivo, il cibo, il drink è importante, ma alla fine tu perché vai in un posto? Cioè, Siri che ogni tanto parte da sola. Perché vai in un posto? Vai in un posto perché ti trovi bene, ti è simpatico il bartender o i ragazzi della sala, ti piace l'ambiente, sai di fare bella figura se porti un ospite, perché anche questo non è una cosa da sottovalutare. Io la prima cosa che vado, le luci, e se tipo esco con una persona, se la voglio portare in un posto, ti dico, che mi dice, oh beh, lo sto parlando, prima sola. Questa è un'altra cosa importantissima, non siamo sempre soli, noi andiamo con qualcuno nei locali, e se questo qualcuno, un nostro ospite o un cliente, o una prima uscita, anche con una ragazza, nel caso in cui ovviamente la serata è importante, tu vuoi fare bella figura, vuoi portare queste persone e far sì che queste persone si trovino bene e quando escono dicono, il giorno dopo, sai che ieri sera sono andato con Carmine in questo locale, oh ma è strafigo, mi ha fatto dei cocktail meravigliosi, buoni, poi il locale era proprio bello, è così che è il passaparola. Perciò il nostro compito è far sì che le persone che poi vengono, non sapendo con chi sono accompagnate, facciano bella figura. Noi dobbiamo farti fare bella figura, perché se ti facciamo fare bella figura, abbiamo un prospetto reale di potenzialità, di portare clienti. Questa è la vecchia scuola. Oggi lavori molto di più con social network, vedi quante volte guardiamo dei profili di locali, cocktail bellissimi e tutto. Poi magari vai e vedi che la realtà non è quella che, sai, reality vs, Instagram, quante volte ci capita questa situazione. Però, vabbè, queste sono... Una realtà, parlando del food, che volevo dirti anche su questo, ti ho lasciato parlare, è del... I ragazzi dello studio MyJu si sono occupati del... Adesso ti parlo di un'estremizzazione. Tu hai detto che comunque ti piace la parte del cibo, e in un qualche modo deve essere curata. C'è questo locale che si conoscerà di sicuro, di Mario Farulla, il Dirty, che ovviamente la base è loro, però una mano nella comunicazione, una mano nell'impostare, tutti gliel'hanno data queste ragazze, dello studio MyJu. E dico, come conta veramente il messaggio che vuoi dare? Perché Mario è venuto qua con me a fare un episodio insieme. Lui ti dà la banana, lui ti dà la sim, e le cose varie. Ma quella è provocazione. È provocazione, però è stata super vincente. Mi fa, una sera abbiamo venduto 110 banane a un euro, capito? Non è aver vinto quello. Certo. Capito? Infatti è la provocazione che poi porta a farti vedere una cosa da un diverso punto di vista. Come è vincente anche andare, perché ovviamente la prima cosa che pensi è, gli porto un sandwich super elaborato, buonissimo, tu dici fantastico, arrivato all'obiettivo. ma che genialità è dire, gli porto la simmental, capito? Estremizzare dall'altro lato. C'è da dire che chi poi mangia la simmental in quel caso, la mangia... Sì, ovviamente. ...per una questione di, appunto, di provocazione a se stesso, no? Cioè, è una cosa molto geniale. Dall'altra parte, se ti mangi il sandwich fatto, perché vuoi godere dal punto di vista del palazzo, perché l'hai mangiato l'altra volta e dici, mi chiede, devo ritornare là a mangiare il sandwich. Quello che vedo io è come comunque nel nostro lavoro si può veramente giocare su ogni cosa. C'è uno spazio, è un'apertura incredibile. Mario è sempre stato un genio sulla provocazione, ha sempre avuto delle idee completamente differenti dagli altri e è merito di Mario questo successo che ha avuto, non intendo del Dirty. Del Dirty ovviamente è un lavoro di squadra, di Mario, di Karola, di Gigi e di tutto il team. Però Mario è così. Mario è Dirty, non sporco. Intendo Dirty, è anima e corpo nel progetto e chi comunque ha pensato a tutto il pacchetto e ha aiutato Mario e i suoi soci a fare questo è il classico esempio di una creazione a pennello su misura di un concetto che hanno capito benissimo esattamente come provocare, fare qualcosa di diverso in un contesto milanese dove non c'era niente del genere. Io glielo ho detto subito quando è venuto qua in episodio perché ai tempi di Facebook una volta gli stavo per commentare una cosa che ha scritto e poi nel vedere gli altri commenti mi sono detto ma lui l'ha fatta apposta questa cosa qua, capito? Ed è la stessa cosa che tra virgolette faccio io caricando le cose sul profilo del podcast dico con questa cosa qua tutti si incazzano e scrivono. Certo, certo. E uguale, tipo, gliene avevo parlato anche a lui lui ha scritto le Jordan non sono neanche così tanto le Jordan non sono belle e poi non vi stanno neanche tanto bene quando è arrivato qua con quelle scarpe è venuto con delle Jordan e io stavo per iscrivere eh ma le Jordan sono perché io colleziono io colleziono i Jordanetti l'avevo notato da diverse cose dico le Jordan sono belle e invece tra me e me dico ma a lui magari a lui gli piacciono anche le Jordan però sa che scrivendo questa cosa parte tutta questa cosa lì sotto ma lui è un genio su queste cose e infatti quando è venuto qua ha detto tu sei un provocatore lo fai apposta certo e su questa cosa qua mi ha fatto crescere tanto anche la zanzara sì che dico è tipo Cruciani lui tante cose magari neanche gli interessa la maggior parte delle cose neanche gli interessa ma lui lo dice apposta perché sa che va a toccare quel punto lì e sa che fa uscire tutta questa cosa ma infatti una cosa che mi insegnava appunto lo chef che ti raccontavo prima che ha successo sui social network era sempre io ho bisogno dei critici io ho bisogno delle critiche ho bisogno che ci sia qualcuno che mi risponda dicendomi cose negative perché quello fa innescare i commenti e di conseguenza mi porta su tutte le interazioni io adesso ho c'ho due reel uno di Giorgio Paginetti in cui dice un ragazzo che esce dal corso vuole milleotto io dico milleotto li devi valere comunque parla di soldi poi c'è un altro mio reel dove io dico soltanto come tu hai anche già detto io dico soltanto io sono un bartender ho fatto il mio corso base faccio il bartender dicendo ho fatto anche il corso mixology quindi sciroppi purè infusi distillati neumatizzati te li so fare so fare l'amaro so fare tutto quanto però lo so fare ok ma sono qualificato per farlo? certo o quantomeno devo per forza farlo in tutti i posti? sono qualificato per fare una purea al watermelon lo so fare? sì quando c'è un'azienda che investe milioni per farla? lo so fare? sì sono qualificato non lo so infatti sotto i commenti però sotto una frase del genere wow tutti i messi perciò la mia provocazione è smettetele di fare la pignacolada quando cagare la pignacolada basta con questa pignacolada perciò questa è la mia provocazione te la ricordi la sexy colada? sexy colada Daniele Dallapola oh Dio di Daniele sì e quella è stata la prima volta che ho apprezzato la pignacolada ma io lo dico scherzando sempre perché purtroppo non riesco più a annusare o bere cose che hanno il cocco a meno che non sia fresco poi purtroppo non sono un grande amante della frutta e il pineapple mi fa venire proprio la pelle d'oca perciò le due cose messe insieme basta cioè perciò ho fatto sta cruciata che basta sta pignacolada non fatela più siamo arrivati a un'ora e 06 e ti giuro in più di quasi cinquante episodi non mi è mai capitato abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo seguito quello che di solito faccio negli episodi quindi mi interessa parlare di te sì quindi dimmi un attimo anche se non dico dettagliatamente tutta la tua carriera però dimmi un attimo come sei partito perché hai iniziato a fare questo lavoro perché lo facevano i miei amici rimorchiamano un sacco erano libri alla sera un po' di sincerità un po' di sincerità poi io non ho mai beccato veramente non ho mai beccato però i miei amici lo facevano già da giovani all'interno di un locale che spaccava nella mia città era era bello vedevo che si divertivano vedevo che finivano la sera a tardi c'era un'energia meravigliosa perciò ho detto voglio provarlo anch'io e mi sono messo a fare un corso da barman e ho iniziato con l'Aibes e il mio percorso però è stato differente cioè l'ho incominciato a fare in maniera seria e nel modo lavoravi già? avevi già un tuo lavoro? no a quel tempo ho incominciato a farlo credo che non facevo ancora il barman ma ho iniziato subito in concomitanza il barista e la cosa è voluta perciò corsi su corsi la cosa è diventata sempre più importante per me perciò non lo facevo solo per il divertimento o per le luci del palcoscenico lo facevo perché cavolo mi stava piacendo e vedevo che avevo una certa propensione nell'imparare tutte queste cose perciò fatto questo ho incominciato a lavorare appunto in diversi locali ma ho iniziato anche a fare l'aiuto pizzaiolo per diversi anni da quando ero ragazzino poi ho fatto la sala poi appunto il banco bar i vari corsi che mi hanno portato a crescere poi a un certo punto in quel periodo stiamo parlando di un po' di anni fa immagino eh sì io ho 47 anni ho iniziato quando avevo 17-18 perciò quindi la fonte principale di formazione era Ibes sì a quel momento sì perché era la formazione più importante ma io prima dell'Aibes feci un altro corso con una persona che stimo e amo tantissimo che è Ezio Falconi sì qua vicino tra l'altro è bravissimo è stato il primo docente che mi ha portato passione in quel lavoro poi ho fatto anche l'Aibes poi da lì ho capito che a quel tempo si diceva se vuoi imparare bene e entrare nella porta principale di un hotel e via dicendo devi andare all'estero e imparare le lingue mollato tutto sono andato in Inghilterra sono stato lì diverso tempo sono tornato indietro quando sono tornato indietro ho detto il tuo curriculum deve essere troppo valido per il culo mi costi troppo allora ho mandato a fare in culo il discorso delle hotellerie e vediceno sono ritornato nella mia piccola cittadina di provincia Lodi e la mia missione era insegnare il bere consapevole bene ai miei concittadini perciò questo mi è servito molto perché oggi ho una valutazione da parte dei miei concittadini a distanza di tanti anni che è di massimo rispetto però se faccio una cosa credo in quello che faccio quindi da lì ho fatto il mio percorso dopo ho accettato di arrivare finalmente a Milano perché all'inizio a Milano appunto dopo Londra tutti mi dicono costi troppo in queste zone qua poi comunque a parte adesso che io io sinceramente ritengo Bergamo una realtà molto cioè super super buona con prodotto a Milano nel senso che non è come Milano a livello di quantitativo però ha una qualità altissima e non costa come Milano secondo me Bergamo però comunque in quei tempi lì immagino eh sì stiamo parlando di 25-30 anni fa comunque rifiutato da Milano o quantomeno rimbalzato da Milano perché costavo troppo per loro a Lodi avevo opportunità di prendere i miei bei soldi vicino a casa educare i miei clienti da lì ovviamente sono andato avanti partecipato a tantissime competizioni infatti mi interessava mi interessava questo raccontami un po' i risultati che hai avuto ma allora centinaia di perdite pochissime vincite sì quelle la va anche Michael Jordan Michael Jordan ha perso più di quello che ha vinto ma è stato formativo e divertente e perciò la cosa mi è piaciuta molto li facevo con l'IBS li facevo con la UK i BJ in Inghilterra li facevo anche dal punto di vista di competizioni come la di Agile World Class e via dicendo bellissimo percorso utilissimo ai fini di imparare e confrontarsi oggi ovviamente ci sono centinaia di competizioni a quel tempo erano un po' minori le opportunità non c'erano masterclass non rare oggi abbiamo ogni settimana una masterclass una guest una competizione c'è un'opportunità immensa ti puoi formare in un modo esagerato anche solo con Youtube i libri che non c'erano Youtube che non c'era i smartphone che non esistevano tutto quello che hai di qua è tutto Youtube perciò è quello che mi ha fatto poi evolvere dopo tanti anni una chiamata da Milano dove poi è nato tutto il mio discorso sull'OIBV nel 2014 arriva ho accettato di andare a Milano da questo mio amico che ti citavo prima il fotografo del libro e proprietà ex datore di lavoro e sono stato lì con loro diversi anni fino a quando poi ho avuto proprio il nodo alla Gora non ce la facevo più ed è arrivata questa grandissima azienda di Room che mi ha offerto di diventare Global Ambassador inizialmente ero europeo poi sono diventato Global esperienza meravigliosa io che poi adoro viaggiare mi sono sempre premesso che io devo vedere il più possibile del mondo e possibilmente senza mettere fuori un euro e ti dico la verità ce l'ho fatta ce l'ho fatta e lo sto ancora facendo oggi perciò viaggio anzi a volte vengo anche pagato per andare a fare magari un viaggio e la cosa è molto piacevole da lì ho fatto appunto tre anni come Global Ambassador perché se no poi me lo dimentico a parte il fatto del trattarsi del viaggiare senza pagare o essere pagato mi ricordo che tramite una storia che ho fatto quando ero a Roma da qualche parte si vedeva che ero a Lilton ah ti tratti bene hai tratti bene non la pago io sono gli altri che pagano forse per me ero nel peggio B&B perciò da lì no però volevo dirti Global Ambassador perché questo proprio nei commenti che sto ricevendo perché dice si Carmine tu sponsorizzi dici di usare dici che questa pure è buona perché ti danno i soldi ma non è sì li rappresento però dico cioè veramente credo in questo prodotto certo e dico ti è arrivata questa proposta da Rum perché a me è capitata anni fa che un altro marchio di sciroppi e purè mi aveva contattato e la proposta era anche buona però dico non ti piaceva più di tanto e dico i soldi sì mi servono a chi non servono però se non mi rappresenta come faccio io mi ha contattato un'azienda che vende sigarette elettroniche io non ho mai fatto un tiro neanche di sigarette normale un preventivo l'ho fatto altissimo poi dico magari mi dicono di sia preventivo altissimo e poi dopo alla fine io ho detto no lasciamo perdere ma io come faccio a rappresentare a fare della pubblicità per una cosa che quindi dico questo marchio che ti ha contattato oltre alla proposta economica che non voglio saperla dico era un'azienda in cui tu credevi un'azienda che tu dico un'azienda a cui tu volentieri avresti associato il tuo nome assolutamente sì perché comunque era un prodotto che già stimavo da quando ero ragazzino che iniziavo i primi passi nel mondo del bar e sono d'accordo con te è giusto che tu credi in un prodotto tanto è vero che nel momento in cui lasciai questa azienda mi arrivarono diverse altre proposte da diversi altri brand indipendentemente dall'offerta che poteva essere più o meno valutabile economicamente parlando che è una cosa a parte io ho rifiutato praticamente tutto perché o non mi piaceva il progetto o non avevo una vera e propria passione per quel prodotto o per il brand stesso di conseguenza ho fatto delle scelte però hai detto bene cioè alla fine noi stiamo facendo questo lavoro il nostro lavoro è quello di vendere dei prodotti che sono sotto forma di un cocktail allora la domanda potrebbe essere come fai a vendere bene un cocktail se non stimi particolarmente uno dei prodotti che c'è messo dentro è vero ma noi siamo anche improntati nel fare dei drink dove il drink costa ha una certa importanza e per quanto vorremmo utilizzare dei prodotti di massima qualità e costosissimi a volte dobbiamo essere anche selettivi utilizzare dei prodotti meno magari qualitativi intendo non così estremamente buoni e costosi con dei prodotti un po' meno costosi e magari un po' meno qualitativi per far tornare i conti anche al cliente stesso che paga n euro per un cocktail e allora io cosa dovrei dire ti hanno questo cocktail qua è buono ma sai c'è dentro quel prodotto che a me onestamente non mi fa impazzire anche a me fa cagare si può dire cagare ecco la pignacolada ma se mi pagano per fare un evento dove devo fare la pignacolada cosa ti dico no non vengo perché a me fa cagare la pignacolada siamo lavoratori noi facciamo delle cose nel massimo rispetto possibile nei prodotti che abbiamo a disposizione ovviamente il credere in un prodotto ti fa passare completamente da uno status di è solo lavoro e monetizzazione a credo in quello che faccio lo farò nel miglior modo possibile sicuramente vendendolo nel modo massimo delle mie capacità questo mi interessa nel fatto che questo room ti piaceva era un'azienda in cui tu credevi un'azienda che tu sposavi quindi è secondario al fatto che che real mi dà dei soldi che mi dà dei soldi per lavorare per loro io credo veramente che questa purea di banana è una bomba capito perché so come è fatto su quello che c'è di dire è uguale a te per quel room lì capito non è perché mi pagano che dico che è buono cioè non sono Cristiano Ronaldo che mi fa le Mercurial e dico le Mercurial sono le migliori di sempre capito non è una pubblicità in quel modo no ma poi oltretutto parliamo sempre di realtà non nascondiamoci dietro a falsi perbenismi noi arriviamo a un percorso di lavoro di carriera per poter sbocciare perché non credo che a 55-60 anni saremo ancora lì dietro il banco a dire il Mojito non è fatto così allora dobbiamo sfociare in un lavoro se a parità di compenso arrivano tre aziende tu sceglierai quella che ti dà l'ispirazione massima che può essere dal progetto al prodotto alle prospettive di carriera no? io non credo che tutti i nostri colleghi che lavorano nelle aziende globali a casa bevano solamente quel prodotto quando escono bevano solamente quel prodotto cioè io avevo ho un certo rispetto e piacere e stima dell'azienda della quale ho lavorato per tre anni ma se mi devi dire il distillato che preferisci ti dico il whisky anch'io e allora allora perché amo il whisky ma arriva uno e mi dice cavolo ti piace questa azienda si mi piace però non è whisky è room non lavoreresti per me questo è il tuo stipendio i tuoi benefit le tue opportunità di carriera e di lavoro no perché sai non è whisky siamo realisti alla fine bisogna anche ragionare in maniera logica ovviamente l'ho detto prima quando mi si sono poste n aziende che mi hanno fatto delle proposte di diventare ambassador global qualche l'è per loro valutavo il prodotto non mi fa caldo né freddo però magari hanno una bella prospettiva di progetto per la mia carriera può essere positiva che nomea hanno che visione hanno che impatto ha l'accostamento del mio nome e la mia persona con questo prodotto io faccio questi ragionamenti e poi dopo imparo a degustarmi quel prodotto ovviamente se una cosa non mi piace non mi piace dimmi un po' torniamo a inizio dell'episodio sì da cosa nasce e che cos'è sai tra l'altro bellissimo grazie allora la diversificazione del nostro lavoro l'abbiamo detto prima è importante non puoi fermarti solamente dietro il bancone io ho visto tantissimi bartender mixology chiamali come vuoi baristi eccezionali nel fare il loro lavoro letteralmente eccezionali ma se li discosti dal loro lavoro ovvero dalla creazione del drink e dell'esecuzione tecnica magari non hanno determinate capacità gestionali fare un masterclass parlare col pubblico fare delle slide creare un qualcosa di differente attorno a loro no io per mia fortuna ho sempre avuto la passione del disegno tecnico soprattutto e ho sempre pensato ok ma in tutto questo percorso della mia carriera quali possono essere le tacche sulla cintura che uno potrebbe volere dal punto di vista di un mixology di un bartender avere non lo so creare un prodotto col tuo nome ok fare un tools ok fare un cocktail bar perché per altri può essere avere un proprio cocktail bar va bene un bicchiere che porta il tuo nome ok io tutte queste cose pian pianino me le sto costruendo sono partito con un libro che ha avuto un ottimo successo infatti raccontami un po' di questo libro poi vai avanti facciamo un po' di pubblicità grazie mille grazie ormai il libro penso che dopo anni non si sarà più neanche più in commercio nasce da Milano quando sono andato a lavorare in questa situazione molto particolare dove all'interno di una struttura di un monumento della città di Milano c'era il museo dell'infanzia e volevano un bar bistro che potesse dar da mangiare da bere alle famiglie il proprietario che è questo mio amico da tantissimi anni mi chiede se potevo dargli una mano ma mi dice qui c'è un problema noi abbiamo il limite dei 21 gradi alcolici un po' come le vecchie licenze bianche non possiamo servire o far vedere prodotti superalcolici al che ovviamente ho detto no non mi interessa perché non mi vedevo a fare cappuccini e frappè poi però ho capito che invece poteva essere un'opportunità immensa stiamo parlando dell'inizio 2014 ho accettato ho incominciato ad analizzare facendo anche un team con una squadra Cesare Arruco del Bob di Milano c'era Giorgio Manarino che adesso lavora a New York e abbiamo incominciato a creare un team e una ricerca questa ricerca si è rivelata poi un mondo incredibile un sottomondo incredibile degli superalcolici e abbiamo incominciato ad applicare creando drink acquistando prodotti cercandoli nel mondo e facendo dei cocktail a bassa gradazione alcolica questa cosa non dico di essere un precursore perché non è detto e non è scritto da nessuna parte mi dice 2014 però è una cosa che oggi sarebbe super vincente ma infatti la realtà è che il boom dell'OEBV arriva nel 2017-18 perciò sono stato diciamo tra i primi a livello internazionale ad applicare questa cosa e andare in giro a parlarne qualche anno più tardi la cosa ovviamente aveva preso una importanza abbastanza grossa di trend e questa realtà mi ha portato dalla biblioteca culinaria che tra l'altro è situata nella mia città e una casa editrice che scrive libri di chef di tutto il mondo plurivincitrice di premi internazionali e mi dice ma è il momento giusto ma perché non facciamo un libro sull'OEBV che non c'è niente nel settore al che Pasquale Formisano il mio amico d'attore di lavoro e ex fotografo di fama internazionale mi dice lo voglio fare con te facciamo le foto le faccio io del libro e tutto esce un libro che ne vado straorgoglioso come si chiama? si chiama cocktail low alcohol nuove frontiere della miscelazione ok Alex lo mettiamo scritto non lo so nell'inquadratura che vuoi tu però scritto grazie grazie Carmela grazie Alex e praticamente esce sia in lingua inglese sia in lingua italiana qualche migliaio di copie e ha un successo incredibile quanto costava? 20 euro sotto i 30 si si addirittura la regina li ha finiti tutte le sue copie e tutto e da lì fortifica il concetto del percorso di quello che abbiamo fatto in quegli anni ovvero spiegava il percorso di come approcciare un low e i bv e altri aspetti il team work social network e via dicendo fotografie meravigliose come puoi immaginarti e in più abbiamo riscritto il concetto delle icone delle miscelazioni perché sai che quando guardavi le ricettari vedevi magari shaker c'era il disegno dello shaker ma il concetto era vecchio come fai a modernizzare throwing ice ball ice cube o crash ice o fiori come decorazione è un mondo nuovo allora abbiamo preso un grafico che ci ha rifatto tutte le icone per far sì che nella ricetta si vedesse il libro era fatto sia per le persone alle prime armi sia per i cocktail lovers sia per le persone che invece sia per quelli normali sì perciò parlava una lingua abbastanza stessa dopo un anno esattamente dopo un anno della pubblicazione il libro viene premiato ai world gourmet awards sono andato a Macau a ricevere il premio come il miglior libro nella categoria low low alcohol battendo addirittura il libro di Sidlip che in quell'anno era diventato parte del gruppo di Agio e in più aveva vinto dalla versione italiana per me è stato una soddisfazione cioè veramente Macau è veramente più che dall'altra parte del mondo perciò per me è stata una cosa fantastica e mi ha un po' mi ha dato questa iconografia del uno dei precursori appunto del movimento l'UEBV sia italiano che a livello internazionale quindi è stata una bella spinta questo libro nella tua carriera assolutamente sì assolutamente sì con un certo rispetto anche a livello internazionale tanto è vero che per 4 anni sono stato citato una delle persone più influenti nel mondo della bar industry dei 100 influenti della bar industry grazie anche a questa cosa quello perciò è stata un'importantissima situazione che poi mi ha anche dato modo di evolvere anche la stessa azienda un bello switch nella carriera assolutamente anche l'azienda di Room era interessata all'argomentazione perché non è che tu l'UEBV lo fai solo con prodotti che non sono superalcolici lo puoi fare tranquillamente anche con prodotti superalcolici pensa che un giorno andai a San Pietroburgo a fare un seminario al Moscow Basho sull'assenzio in chiave l'UEBV la gente è andata fuori di testa facendo dei cocktail con l'assenzio in chiave l'UEBV questo perciò è stato un bellissimo step tornando a questo un tools avevo un'idea di fare il tools io conosco il nostro amico Johnny Gabriele dell'azienda The Bars Italia e parlando con lui mi diceva cavolo ma sì mi piacerebbe fare un giorno un piccola collezione di tools fatti con un nome di un bartender mi piacerebbe farlo con te ma non riuscivamo mai a trovare il design giusto io nel frattempo con l'azienda di Room che lavoravo avevo già disegnato dei tools che poi sono stati creati per come POS di regalo ai vari clienti e perciò la mia capacità di disegno tecnico e via dicendo mi ha portato ad avere un po' di base se posso interromperti un attimo tra l'altro Johnny De Barsi è sempre stato molto vicino ai bartender in questa cosa nel senso che vedi si è vicino da te facciamo un tools insieme io mi ricordo che non so se conosci Marco Canova assolutamente è un carissimo amico da Londra Marco Canova è il bartender italiano più vincente della storia e Marco Canova i suoi team i suoi team che usava in gara se li ha fatti fare lui su misura da Johnny nel senso i team di Canova erano team de bars senza il peso però fatti in un modo leggermente diverso perché Marco si è messo lì con Johnny li voglio così e così e gliel'ha fatti perfetti Marco lo aspettavamo le ore quando lui stava in cortile a farsi i flare gli allenamenti di flare e poi dovevamo magari andare a fare l'aperitivo a mangiare tutto eravamo io Giuseppe Gallo e Marco questo qua non arriva più grande Marco e comunque un giorno sono a Johannesburg a fare una guest e sai quando ti si illumina la lampadina no? sì sì l'idea ero dietro il banco bar davanti avevo queste proprietà di una scuola di bartender a Johannesburg e parlando si scherzava ironizzando sull'italianità la gestualità le mani le dita il movimento dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano e giustamente diceva ah you're Italian you're Italian you always move your hands e tutti ti dicono effettivamente pensandoci ma perché così cosa vuol dire così di qua e di là poi continuava a fare le battute anche un po' stupide no? del tipo hands five fingers five fingers tutte battute stupide a un certo punto ero lì dietro il banco che stavo miscelando un drink con uno dei miei bar spoon guardavo una delle ragazze che faceva eh Italia d'Italia e dicevo cazzo questa è una bella idea uno tools un bar spoon con la mano sopra la chiamiamo five fingers o qualcosa del genere cacchio lì stava iniziando l'idea ora torno in hotel a dormire la sera e incomincio a mettere giù l'idea poi torno e gli scrivo a Johnny ho un'idea incredibile la mano di qua e di là ti metto giù il disegno tecnico e te la mando gliela mando lui mi fa cazzo ma questa è un'idea geniale mettiamo la mano sopra così che indica appunto l'italianità per eccellenza questo no? hai pensato anche alla cosa dello steer c'è che la mano fa così assolutamente perciò il concetto è tutto e dicevo cavolo qual'idea fantastica in quel momento Johnny che è sempre avanti un passo rispetto agli altri nel cercare innovazione e nuove tecniche aveva trovato nelle marche un'azienda un'azienda che faceva tiratura limitate se vuoi anche di piccola numerazione di prodotti inzama inzama che è un materiale che viene utilizzato anche per la gioielleria della moda e via dicendo completamente utilizzabile anche per noi del bar perciò igienizzabile e via dicendo aveva tutte le caratteristiche allora Johnny mi fa cavolo gli mando il disegno gli piace subito il disegno capisce l'idea e fa vado a fargli fare uno stampo in 3D vediamo poi lo applichiamo su uno dei miei spoon e gli faccio sì ma poi mettiamo magari una firma e tutto sì facciamo una tiratura limitata solo 300 pezzi questa è una limited edition collection no? detto cacchio idea geniale lì nasce tutto e in poco tempo arriva il five finger bar spoon che ovviamente l'ho portato da regalarti numerato in solo 300 pezzi che vede appunto la manina sopra come puoi vedere che fa così eh non riesco a metterlo a fuoco così se tu allora mi sposto io no no fatto eccola qua è uno spoon esatto poi sul cucchiaio vedi la mia firma e la numerazione del cucchiaio che nel tuo caso è non lo so se riesci a leggere che numero è il mio è 157 157 su 300 io ne ho un po' ancora in giro e è anche qua un successo incredibile ho fatto un po' di di mi sono creato un po' dei reel dei video e via dicendo per lanciare il prodotto l'abbiamo lanciato eh subito dopo poco tempo che l'abbiamo creato c'è stata subito un'ondata di richieste da parte di italiani barman ma non solo anche persone comuni e non solo dall'Italia all'estero una merida di gente hanno cercato hanno voluto acquistarlo perché dava proprio il concetto dell'italianità è poi divertente infatti mi viene in mente proprio l'italiano all'estero bravo 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 un nostro caro amico non so se conosci Shane Eaton di quest'anno in Milano lui è molto amico di un di un locale a New York quando hanno visto il suo bar spoon perché lui comunque è un cocktail lover di alto profilo ogni tanto si mette a fare i drink e hanno visto di dove è sto bar spoon e gli fa eh di Diego di qua e di là ma come facciamo ad averlo e allora gli hanno comprato i sei e gli riporto sul suo prossimo viaggio da dare in omaggio a sti ragazzi perché ovviamente figurati poi quando vedono la manina che ovviamente si muove perché quando tu vai a mixare la mano fa quasi come la tarantella è anche divertente no? perciò è molto molto piacevole ed ecco qua un'altra tacca sulla mia cintura che non sono cose che fai a livello di guadagno perché obiettivamente non è quello ma è una cosa che dici quando io finirò il mio lavoro o quando io non ci sarò più un libro rimarrà per sempre per sempre e l'ho fatto è il mio più grande privilegio poter offrire un libro a chi lo volerà leggere in più questa è una cosa divertente che ho anche qua fotografata però se alla fine tu dici ok questo non l'ho fatto per i soldi però alla fine non parlo di soldi dico se tu non avessi fatto questo probabilmente non ti avrei chiesto di venire qua capito? perché a me Johnny mi ha detto guarda c'è questo mio amico Diego perché Johnny gli episodi li ho visti perché ho chiamato Francesco Leoni che è il suo super amico quindi gli episodi li guardo secondo me Diego andrebbe benissimo e io dico Johnny non lo conosco però se mi dici lo chiamo sicuramente però se avessi avuto soltanto l'opinione di Johnny non penso che ti avrei chiesto di venire capito? invece io ho avuto l'opinione di Johnny già ti conoscevo perché tramite Johnny avevo visto qualche vostro video tipo quello in aeroporto capito? poi avevo visto lo spuno ho visto lo spuno girare ho visto te girare e da la cosa che hai capito perciò dici questo non è stato fatto per guadagnarci soldi però diversificare quello che dicevi prima alla fine facendo uno spun alla fine tu facendo il tuo stir a Johannesburg da cosa nasce cosa io ti ho chiesto di venire io ti ho chiesto di venire al podcast è tutta una questione di opportunità di evoluzione vedi com'è bello non sai mai cosa ti succede dietro all'angolo c'è sempre una sorpresa e tra l'altro non l'ho ancora detto ti ringrazio tanto ti ringrazio tanto per essere venuto perché molti molti mi rimbalzano molti non mi rispondono quindi ti ringrazio molto di essere venuto magari anche vedendo te molti inizieranno a rispondermi speriamo speriamo perché poi è tutto un concatenarsi di amicizie questo mondo è fatto così comunque dai diciamo che la diversificazione del nostro lavoro è importante e soprattutto poi quando cominci a farti vedere nell'ambito della mixology della bar scene che sai fare oltre di un buon drink le aziende le aziende incominciano a prenderti sul serio perciò incominciano a darti credibilità e la credibilità è il rispetto il rispetto ti porta a un ottimo prospetto di vita carriera e di amicizie attorno a te dimmi un po' allora prima cosa il bancone ti piace? bello infatti è anche comodo questa sedia questo sgabello è veramente comodo ok il bancone me l'hanno fatto dei ragazzi per cui lavoro io ho un catering che è di Bergamo però lavoro in tutta Italia me l'hanno fatto soltanto dandogli le misure non sono mai stati qua mi hanno fatto il bancone pazzesco detto questo domande e visto che è molto in voga adesso sul mio sul profilo del podcast tu cosa ne pensi delle ovviamente immagino che mi risponderai che vale dipende da che locale è locale però tu sulle preparazioni prepararsi pure sciroppi infusi distillati tu su quel discorso lì come la vedi? hai detto una cosa prima che è intelligente io ho imparato a farle ma non è detto che devo per forza applicarle o dove vado il contesto di dire a secondo di tu di dove tu vai devi sapere utilizzare una tecnica o un'altra è assolutamente reale spesso l'analisi del locale dove sei non viene fatta e non capisci che non puoi oddio nel tuo locale puoi fare quello che vuoi questa è la base non vai a servire un cocktail martini ghiacciato in un cerenghito sulla spiaggia alle Hawaii come magari non vai a servire uno spritz classico a un cocktail bar fatto da Ferran Adria ex bully perché magari fai qualcosa di molecolare cioè tutto ha un suo ambiente e secondo me questa è essenziale e poi soprattutto devi capire il pubblico che tu vai ad approcciare è normale che alcune preparazioni ti alzano i costi e di conseguenza non puoi far pagare a alo di 25 euro per un cocktail homemade anche se poi sono il primo a dire che c'è un cocktail in carta da 28 euro ne vendo comunque uno alla settimana va bene ma deve esserci un supporto che va ben oltre cioè tutto deve avere un suo luogo il fatto del creare preparazioni come te ho imparato a farle fin dal 2000 incominciavo già a fare il molecolare perché seguivo una delle persone che stimo di più nel mondo del bar che è Dario Comini già lui lo faceva io tramite i suoi suggerimenti lo riapplicavo poi a Lodi o a Londra anche io all'inizio ho iniziato ho visto il flair bellissimo voglio farlo ho visto Dario perché anche io ho iniziato nel 2008 anche in quel periodo lì c'era Dario che era ho visto Dario Comini no voglio fare anche io ho fatto tutti i corsi mixologi mi ricordo che lo chef nel locale dove lavoravo io e faceva sempre dei piatti con le gelatine le gelatine e gli dico dai insegnami a fare le gelatine io non sapevo fare la cotoletta ma avevo imparato a fare la gelatina non so fare una frittata ma la gelatina quindi anche io me l'ho preso bene tutta la roba mia quello è utile sucro aria ma alla fine quello che vado ad analizzare l'abbiamo detto prima ci sono delle aziende che investono migliaia centinaia milioni di euro nella ricerca sviluppo creazione di prodotti prendendosi la briga e la responsabilità di fare un prodotto che qualora dovesse avere dei problemi dal punto di vista di allergeni o via dicendo da un certo punto di vista ti tutena perché non è una cosa che hai fatto tu in maniera sbagliata e senza aver dichiarato il tutto oltre il fatto dell'incommenza della dichiarazione dal punto di vista dell'asena di quello che stai facendo e via dicendo oltre il fatto delle ore che devi perdere della preparazione di tutto il tuo made che ti porta lì ore prima a fare delle preps per poi fare il drink alla sera la maturità ennesima volta criticatemi pure lavorativa che ti porta a un certo punto a dire che less is more perciò aziende che fanno tutto ormai oggi tutto tu li puoi applicare in cocktail senza dover perderti ore applicate del tuo staff nelle preparazioni materiali che ti costano migliaia di euro rischi ecco questo scusa ti interrompo ma questo è veramente quello che nella mia testa se io avessi un locale sarebbe la cosa più grande se io sweet and sour ok non voglio dire il famoso sciroppo al parmigiano io dico sweet and sour ok il mio ragazzo che lavora per me di 10 anni bravissimo si è dimenticato una bottiglia di sweet and sour in fondo nell'angolo del frigo con l'etichetta è scaduto e finito ti arriva dentro l'asle noi siamo precisi sempre etichette sempre tutto sweet and sour spremuto lotti quando l'hai fatto puoi recuperare il limone da dove è partito da quella bottiglia di sweet and sour oh il ragazzo si è dimenticato la bottiglia lì dietro la mappa così di muffa sopra è certo ma poi oltre a questo non lui che è come me dei decenni quello che è qua da un mese la vede la vede lavandino la muffa acqua chiude la usa cioè sto dicendo sto dicendo una cosa impossibile che succede no 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 ma ancora peggio ti arriva un controllo e ti dà una bella multa di 1700 euro per quello che è successo non perché non dico questa azienda dico qualsiasi azienda ma quanto vivi sicuro uno frigo ciao basta sono pienamente d'accordo quello ti porta col tempo a capire che devono essere fatti nel senso tu devi imparare a farle devi farle devi sbagliare e tutto però arrivi a un certo punto che capisci che voglio un tale prodotto lo cerco nel mercato lo trovo oggi anche online lo trovi cioè trovi tutto dici che magari limita o soffoca la tua creatività non nel mio caso perché alla fine ho imparato a farle e adesso decido che non ho più bisogno di applicarle se non per mio volere su un singolo esempio di una singola ricetta per un singolo evento però a oggi mi trovo a utilizzare quello che il mondo del bar ci offre senza avere rischi di nessun tipo ma adesso poi ci sono anche aziende cioè tipo un paio di settimane fa ho avuto Michele che è la terza generazione di un'azienda napoletana che produce liquori e produce anche sciroppi e purè e lui fa questa cosa che si mette anche a disposizione dei bartender dice vuoi crearti uno sciroppo alla mela nurca perché a Napoli la mela nurca si facciami insieme certo ok te lo produco tripstillery esatto io voglio che è venuto qua Flavio e me l'ha raccontato io voglio creare il mio tipo tu hai il tuo logo che è la tua vuoi fare il tuo amaro ok però materialmente tu hai le competenze anzi no magari le competenze ce le hai sei anche qualificato per farlo ma vuoi prenderti gli schi esatto tripstillery sono lì apposta cioè quando hai iniziato tu c'era qualcuno che ti diceva vieni da me facciamo l'amaro insieme no vai da tripstillery ti fanno il tuo amaro ti fanno il tuo gilbo quello che ti pare ti puoi creare il tuo prodotto quindi viviamo anche in un momento in cui ci sono anche le aziende aperte alle collaborazioni ma perché poi con lotti piccoli riesci a farlo hai comunque una diversificazione dell'incasso e del business ma è per quello che dico sono a favore di cose particolari ma devono avere sempre coscienza dal punto di vista di gestione all'interno del tuo locale se io già sono limitato col personale come tutti i locali oggi e in più già mi faccio le mie 8-10 ore di lavoro cioè vuol dire che comunque mi sto facendo un culo tanto mi devo anche mettere lì a venire altre due ore prima per fare l'infusione la preparazione quella di là capisci che uno può dire ma lo faccio per me stesso e io ti posso dire sì ma anche no perché ricordati che tu hai ragione che lo fai per te stesso ma io non ho torto a dirti che non mi interessa che lo fai perché nel momento in cui ti applichi arrivi al fine del mese che sei stravolto alla fine del servizio che non ce la fai perché sei qua magari dalle 10 di mattina a fare tutte le prep e poi magari sbagli qualcosa e rischiamo di fare un danno a qualcuno o ti dimentichi o arriva non siamo aggiornati magari al centesimo sull'ultima normativa arriva un controllo e come col ghiaccio scusi prendo il telefono perché ti voglio leggere un commento che mi ha fatto scusa un commento che mi ha scritto proprio questo Michele dell'azienda napoletana che mi dice io in quel video dicevo proprio lo sciroppo una purea di fragola ok chi non la sa fare cioè trovi un bartender che ha fatto un corso base di American Bar che non sa fare il premix di fragola ok però qui ovviamente dice purea di fragola nel caso di uno sciroppo fatto con purea di fragola hai verificato il grado BX finale dello sciroppo che sia 65 BX sì 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 è già un bartender e ti dice innanzitutto cosa è BX che cosa vuol dire oppure poi dopo mi dici la preparazione è fatta in modo finale ok c'era un'altra cosa che era interessante tipo mettiamo cosa che abbia conosci le dosi possibili allergeni nel prodotto finito tipo ti crei un amaro tu nel creare il tuo amaro che metti erbe cose varie sai che se utilizzi un certo tipo di prodotto e sbagli la dose diventa tossico esatto capito è certo io il corso Mixology l'ho fatto e ho partecipato spesso per tanto tempo anche come assistenza quindi l'ho vista e rivista questa cosa ma questa cosa che se sbagli un attimo diventa tossico la sai è certo e qui tornano i rischi e tornando ovviamente al discorso del tossico dico perché prendessi certi rischi assolutamente anche perché non tutti nascono con una certa esperienza tanti provano le cose alle prime esperienze ed è lì che ovviamente rischi di fare il danno quindi starei molto attento ad applicare se non è un qualcuno che sopra di te ne sa più di te o quantomeno ti controlla che non fai errori infatti all'inizio del percorso dell'OEBV avevo Cesar che lui voleva molto studiare le varie tecniche e gli avevo consigliato appunto il tempo di andare a vedere le formazioni di quelle di Bologna dei ragazzi come si chiama Ceccarelli dicendo che sono bravissimi perché credo che sia una scuola di altissimo livello ed era giusto che lui imparava era giusto che io ogni tanto gli facevo applicare qualcosa perché è giusto che le cose lui le doveva vedere imparare e applicare e oggi ovviamente hanno fatto nella sua scuola un lavoro importante tanto è vero che è un bravissimo bar manager e con un livello altissimo di preparazione e che sta dando dei risultati all'azienda che è la cosa più importante perché noi comunque siamo sempre qua per dare risultati all'azienda prima che a noi stessi di un certo livello quante volte ti capita adesso ritornando sul discorso degli home made e tutto che vai in un bar cocktail bar questo ti dà la lista o ti vuole consigliare un cocktail fatto con l'infuso del ridistillato del fatto con aromatizzato e tu sei c'è lì che dici fammi un gin tonic per favore o dammi una birra o dammi un whisky perché forse perché tante volte siamo dentro nel percorso noi e dopo un po' io ho fatto anche tantissimi giurie delle competizioni perché tante ho fatto come competizione interna tanto ho fatto da giuria prendi in mente sì anni quando è arrivato a Milano del caffè e fai il giurato e ti vengono lì a raccontare tutta la solfa ho riscoperto questo aroma perché lo sono andato a coltivare sulla luna io l'ho grattato da una piede lunare cioè tu sei lì che dici figa un po' più di semplicità un po' più di semplicità cioè non che sono strano io forse sono troppo dal lato della semplicità io invece cerco di minimizzare un pochettino però tante volte andiamo veramente troppo a incasinarci troppo è figo è interessante è sperimentale su quello io sono assolutamente d'accordo e va sperimentato però nel momento in cui tu fai due homemade un infuso un ridistillato me li metti tutti insieme comincio a avere un po' faccio un po' più fatica a immaginarmi il prodotto finale se ti devo valutare la seglina mentale da nerd bartender allora ti valuto quella una cosa a cui sono arrivato anch'io con la maturità nella competizione penso che perché anche a me capita ne ho fatte tantissime di competizioni da competitor però ne sto facendo molte anche da giudice e quello che c'è prima di assaggiare il drink e di assentirmi la storia del drink cerco di capire se il ragazzo ha inteso l'obiettivo della gara perché la gara ha un come si dice ha un suo obiettivo la gara ha un suo adesso non mi viene non mi viene il termine però tipo Bar Italia era la sostenibilità certo mi è capitato come dico anche nel blog di Bar Italia di vedere ragazzi che hanno pensato il loro drink e poi hanno cercato un modo ecosostenibile di fare quel drink dico ma perché è facile tu il tuo drink ce l'hai già te lo fai ecosostenibile e trovi il modo perché infatti il ragazzo che poi ha vinto e con cui ho parlato che verrà anche qua fra un episodio di mercoledì dico tu non hai pensato invece di partire dall'ecosostenibilità e creare il drink con l'ecosostenibilità ho fatto da giudice in una gara AIBES 2017 penso in cui si presentavano dei drink AIBES lo conosci meglio di me giacca e cravatta tutti precisi barba fatta tutti perfetti un ragazzo era una gara aperta a tutti era organizzata un ragazzo arriva con pantaloni di sacco di juta cappellino da quello lì proprio di paglia gilet stile rovinato mi fa un drink che viene messo dentro il sacco di juta tutto quanto non me lo ricordo però riportava tutto a quello è stato criticato da un signore un pochino più grande un altro giudice perché dice dobbiamo mantenere un certo stile abbiamo un'immagine in cui non accettiamo cappelli strani e cose varie e io lì mi trovo e dico cavolo ma questo ragazzo deve vincere io nel drink non lo assaggio neanche la gara la deve vincere lui cioè se non ha interpretato perfettamente la gara lui chi l'ha fatto? a me avevano penalizzato perché avevano le scarpe che non erano del colore della divisa che dichiaravano a tu pensa però dico cioè sbaglio io a pensarla così o no? guarda sempre col concetto che hai detto tu del creare gli homemade e via dicendo e poi parafraserò una frase di un film molto famoso vedo tanti bartender io questo durante i miei seminari lo dico sempre vedo tanti bartender giovani che mi sanno ridistillare utilizzare il sonificatore fermentazione sanno le cose più nerd possibili poi gli chiedo di farmi un cocktail martini e si perdono o un negroni o un olpal e si perdono l'abc le basi la parafrasi di quel film è principe cerca moglie dove dice prima di volare tu devi sapere rimanere in piedi camminare correre e poi puoi volare c'è c'è un percorso l'abc impara le base cerca prima di gattonare puoi stare in piedi in equilibrio camminare puoi correre poi voli dal punto di vista concettuale ma tu non mi puoi arrivare a dire no perché questo cotto l'ho fatto con il ridistillato un cino aromatizzandolo allo zafferano poi ho messo delle castagne che le ho fermentate con la sola di scarpe della luna poi alla fine della fiera dici ah ok interessante buono va bene lo assaggi bello buono bravissimo dopo il scontato che sai fare il tuo lavoro perciò è già un ottimo punto di partenza vuoi qualcosa altro da bere ma si dai cambiamo mi fai un classico voglio un non dicono il pal che non tutti magari lo conoscono margarita ma fammi anche un classico cocktail martini extra dry e già li vedi un attimino in panico perché non sanno esattamente come gestire un cocktail martini parliamone parliamone o magari quello dell'esempio di un cocktail classico è un esempio ma posso anche andare oltre e ti ok ma hai calcolato il drink cost di questo prodotto hai calcolato che per fare l'arancia disidratata che mi hai messo sopra con il fornetto ventilato deve stare 8, 10 o 12 ore attaccato alla corrente con il rialzo dell'energia elettrica che c'è adesso per fare questa frutta disidratata forse ti costa più del drink stesso e magari lo compri su Amazon e hai 100 pezzi ho due cose da dire che mi hai fatto tenere in mente che le accumulo allora una è questa qua del drink cost che mi hai detto tu storia raccontata non mia personale che me l'hanno raccontata un'altra persona che lavora per questa azienda che fa vado in un locale in cui questo locale fa solo negroni ok ovviamente mille tipi di vermont mille tipi di bitter negroni a passion fruit venduto a 6 euro ok perché è al sud quindi ho capito ma il prodotto lo pagano uguale a noi negroni a 6 euro questo tipo di vermo questo tipo di ghiaccio negroni a passion fruit ok infuso al passion fruit messo dentro non uso il tuo perché me lo faccio io ho fatto ok infuso a passion fruit mezzo passion fruit tagliato a metà proprio non una spiccia tagliata a metà decorazione l'altro mezzo passion fruit dentro via aerea dato come pairing con dentro un'altra roba quanto ti costa fare studio non ci puoi stare dentro in questo no capisco che magari in alcune parti dell'Italia c'è una c'è un costo della vita inferiore rispetto al nord Italia gli affitti costano di meno gli stipendi costano di meno lo sappiamo cioè va bene sono consapevole magari a Milano un drink lo paghi 12 a Palermo lo puoi pagare 8 perché ti puoi permettere di starci dentro nella stessa maniera ma nel momento in cui tu devi cominciare a fare il costo del campari se vogliamo citare un brand è uguale da te quanto da me non è che differenza del vermouth che hai scelto è uguale da te quanto da me perciò il drink cost già di base del prodotto stesso mereo in parlo di liquido è quello e poi ci aggiungi le utenze ok ovviamente ma rimaniamo solo di base nel drink cost come lo pago io a me mi esce non lo so un euro e ottanta ipotizziamo è un euro e ottanta anche da te non c'è differenza quindi la differenza può essere i costi di utenza e di mano d'opera ma quanto può differire da me non lo so 70 centesimi perché ovviamente devi calcolarlo spalmato su n ok ma poi dichiari fatture fatture comunque scontrini se paghi sopra le tasse che margine hai avuto su quel drink ti rimane 80 centesimi su quel cocktail mi vale la pena e ritorno al discorso che ho fatto prima della ruota che tanto la ruota intanto sta andando e magari non te ne rendi neanche conto di certe cose e poi dopo ti fai le domande perché fallisci o perché hai ti faccio io un'altra domanda anzi può essere un'argomentazione di discussione perché tante volte ti ritrovi ad entrare in un ristorante e ti dicono noi facciamo queste cose da mangiare e hai un menù con 4 antipasti 4 primi 4 secondi 4 dolci tra questi non esiste ipotizziamo la parmigiana tu non entri dici ah io voglio una parmigiana eh ma non lo facciamo eh allora che ristorante è non esiste ho la mia lista perché oggi siamo ancora nel concetto che entri in un cocktail bar e devi avere tutti i prodotti che il mondo dell'alcol e non ti devi supportare e devi comunque saper fare qualsiasi cosa che entra al cliente è errato allora io ho fatto una sfida l'odi ho applicato una cocktail list con solo 9 drink classici dell'aperitivo ok americano sbagliato spritz che da 100 anni vincono sempre per fare l'aperitivo dopo di che abbiamo 12 signator con un menù fatto con logica dedicato agli aromi 5 analcolici studiati tutti i gin tonic che vuoi in base all'offerta che ti do vuoi rumi whisky gli amari ce li ho hai una scelta già illimitata perché devi entrare e avere dare per scontato ma questo non è una colpa del cliente semplicemente la formazione che culturalmente si è segnata all'interno di questi clienti ah io voglio un sex on the beach un japanesti no guarda non lo facciamo ma sei serio no noi facciamo questo perché l'offerta che ti diamo è pari a quella di un menù di un ristorante perciò questo è quello che io ti offro e compro i prodotti solo per farti questi prodotti altrimenti avrei un magazzino da 30.000 euro una bottigliera da 30.000 euro e poi ti fai la domanda perché alla fine del mese non riesci a pagare le bollette o gli stipendi o il fornitore è giustissimo il discorso come lo faceva me lo faceva anche Andrea Castellari che mi fa che lui il 93% dei drink che vende sono della sua drink list lui vende tutto su 100 drink è una sfida enorme Carmine per l'odi però l'esperienza della mia credibilità nell'arco degli anni che mi danno credibilità rispetto e come il mondo del bar è cresciuto oggi vuoi sapere la percentuale dei miei drink rispetto ai classici o ai gin and tonic è 65 68% tu dici beh non è alta e no sti cazzi invece è molto alta è molto alta Castellari bravissimo però comunque a Milano tu comunque sei come hai detto prima tu sei in campagna sei un paese cioè ciò vuol dire che io ho non lo so un 30% di o forse 25% di gin and tonic perché comunque quelli non li puoi togliere perché è giusto che sia così e il restante percentuale sono i classici i migroni in americano hanno sbagliato durante qualche aperitivo ma tutto il resto è i miei signature io un sabato sera che è la serata dove mi escono più signature ma io faccio su 10 cocktail almeno 8 sono signature non è un successo a Lodi dove sei ancora lì che ti vengono a chiedere quattro bianchi alla fragola hai capito e lì ti crei anche la tua la tua identità all'interno di comunque di un e credibilità allora tu vieni da me non solo perché perché chiedi fammi un mojito ma perché pigrizia di ma no ma tanto a me piace bevo solo quello ma tu quando vai in un ristorante che ti sembra la pasta al pomodoro perché ti piace la pasta al pomodoro esatto no e non ti sogni di chiedere un fuori menù che non esiste ad uno chef a meno che non hai problemi che è un altro discorso e perché allora del bar deve per forza essere così quando faccio questi ragionamenti li vedi tutti che dicono sì effettivamente ma perché devi avere 100.000 euro di bottiglie per poi magari arriva un cliente in un anno che ti chiede non lo so il golden cadillac hai capito e io devo avere tutto per quel golden cadillac che ti faccio una volta all'anno poi ci saranno sicuramente scuole di pensiero e non le contraddico perché essere intelligenti è anche rispettare il parere di chiunque e non imporre e non imporre il proprio scuole di pensiero che diranno no invece il bar è essere a servizio del cliente e fare quello che il cliente ci chiede non lo discuto la mia esperienza e la mia preparazione e l'analisi di mercato attuale non solo in Italia ma nel mondo è differente tu vieni da me non solo perché ti vuoi scaldare la poltrona due ore seduto nel cocktail bar d'inverno e solo perché il ristorante il cocktail bar è strafigo instagrammabile tu devi venire da me perché il cocktail è instagrammabile è un'esperienza ti piace il locale fai bella figura se vieni da me per tutte queste cose e perché quello che bevi da me non lo bevi da un'altra parte perché tanto la caipirigna la puoi bere in 100 bar attorno a me più buona o meno buona non sta a mezzo di casa perché io ti devo fare la caipirigna giusto giusto e un'altra cosa che ti volevo chiedere barra dire tornando alle alle preparazioni che prima ti ho lasciato parlare io ho un mio gruppo di amici ogni tanto andiamo in un in un bar in stile in stile tiki ok che ha tutto di preparazioni cioè tipo le bottiglie nella bottiglia sono tutte neutre tutte neutre quindi frutto di preparazione questo è il scirope uguale a tutto quanto alla Trader Vicks eh ogni ogni volta che la mattina dopo che noi andiamo in questo locale tutti quanti abbiamo sempre mal di testa ok fisicamente non stiamo bene ok e io ho detto raga parentesi enorme io sono ignorante non ne capisco niente ok quindi dico sono io che sbaglio sicuramente e beviamo eh daikiri margarita eh thomis margarita e drink zombie queste cose qua beviamo il giorno dopo stiamo tutti male male nel senso che un po' pesantezza mal di testa acidità raga stasera proviamo a bere vodka e gin tonic e basta il giorno dopo stiamo tutti bene ok dico ma ci sarà cioè questa cosa che stiamo male può essere legata magari che c'è un problema nelle preparazioni no perché io io faccio un'estate facendo una stagione a jesolo in cui nelle serate in cui non lavoriamo usciamo perciò nei tre mesi estivi quando non lavoriamo tutti beviamo e usciamo perché mi sveglio sempre tranquillissimo nonostante abbia già 33 anni che faccio magari inizio a stare invece sto benissimo ci facciamo una serata in questo porto e il giorno dopo devo prendermi l'occhi capito perché mi gira proprio la testa ci deve essere per forza qualcosa che non va bene nelle preparazioni rispondimi tu a questa cosa sì cerco di analizzare perché mi piace essere analitico a meno che non utilizza degli homemade che possono essere fatti in qualche modo sbagliato non credo che sia una questione di igiene perché alla fine credo che i prodotti siano li vedi se c'è qualcosa che non va bene dal punto di vista dei distillati può essere una qualità di un distillato meramente commerciale bassa con una base di spirito veramente pessima non può essere un problema di succhi non lo so ah beh più che altro che il mal di testa vedi se no succhi ti mandano ovviamente in bagno di senteria un vomito o ti fanno delle irritazioni cioè stiamo parlando di un'intossicazione alimentare il mal di testa arriva quando bevi un prodottaccio quindi magari nella preparazione senza senza conoscere il bar che stai citando e tutto e senza assolutamente assolutamente criticare appunto per dire solo questo senza assolutamente criticare il loro lavoro perché io non sono lì non so quello che fanno cioè sto solo analizzando l'ho fatto senza nomi apposta esatto solo analizzando il problema però vado per esclusione se nel drink che hai preso e ti ha fatto venire il mal di testa c'era la vodka e domani prendi vodka lemon non ti va a venire il mal di testa vuol dire che non è la vodka e non è che non è la lemon c'è un sweet and sour probabilmente c'è un errore in qualcosa che sta facendo il sweet and sour o c'è qualcosa che mi dà dei problemi però ribadisco se è qualcosa di fruttato che è andato male ti manderebbe in bagno o vomitare o qualche letto mi vede un po' difficile quando bevi vino ti può venire il mal di testa possono essere i solfiti per questo ti dico può essere legato perché quel cerchio alla testa è legato all'alcol però però ti può far venire nel momento in cui utilizzi per i tuoi batch magari un prodotto più di bassa qualità ti faccio un esempio tecnico quando andavamo quando facevamo degustare il rum per la quale lavoravo mi soffermavo molto far notare come nel deglutire in quel rum stesso non lasciava la sensazione di raschiare la gola e di calore eccessivo nella parte qua dell'esofalo questo perché mi hanno insegnato che quella reazione ce l'hai nel momento in cui il prodotto di base per creare lo spirito è di bassa qualità quindi ti lascia questa sensazione di calore e di raschiare la gola quando invece è molto morbido degustandolo a meno che non ti prendi un prodotto a 40 gradi e te lo cacci giù alla mattina così senza neanche aver bevuto l'acqua è normale che ti esce il calore e ti raschiare la gola quello è un po' un problema però nell'atto della degustazione e del limite del possibile se questa cosa non succede vuol dire che il prodotto è di buona qualità e questo è importante chi mi dice a me che appunto il prodotto utilizzato in quel batch non era il massimo della qualità invece che prendere un prodotto mediamente standard avevano abbassato la qualità e abbassare la qualità magari non ha il massimo della produzione a meno che non si fanno loro dei distillati ma non credo ma se lo fanno magari sbagliano qualcosa può starci nella ridistillazione che ti sbagliano qualcosa sai le valutazioni possono essere tanti se succede solo a te può essere però se succede a tutti quanti o prendete un punto in comune c'è dentro tutti i drink che avete fatto nel sit and sour o c'è dentro tutti i drink che avete fatto lo stesso prodotto fai un'altra prova se riprovando con gli stessi drink con dentro quel comune nominatore che è appunto il prodotto che in tutti i drink viene utilizzato probabilmente è quello mi interessava fare da come si è sviluppata la nostra chiacchierata mi interessava parlarti di questa cosa e abbiamo quasi finito adesso ti lascio andare dimmi un po' sei contento del tuo percorso? assolutamente sì ovviamente ci sono sempre dei se e se avessi e se è una delle cose che mi persegui da di più a me è normale però io credo che il guardarsi indietro ti prelude il guardare avanti nel senso che non puoi stare come si dice a piangere sul latte versato se sono fatte delle scelte quelle scelte sono state fatte per un motivo molto logico la vedo più filosoficamente se ho fatto quelle scelte è perché oggi dovevo essere in questo punto della mia vita con questo percorso in questa esperienza altrimenti non sarebbe stato così molti anche me hanno detto se tornassi indietro tornerei indietro ragionando con la testa di oggi ho capito mille viaggi nel multiverso e come si dice se avessi il tuo fisico e la tua bellezza questo giorno sarei morto di essere perché non farei chiunque che cazzo altra cosa che mi interessa molto perché è una cosa che io sono totalmente negato mi hai detto che sei sposato da 11 anni da 11 anni raccontami dimmi un po' come hai legato questo mestiere al vivere e questo è il premio più importante che una persona deve ambire perché i primi che ti danno per essere il miglior barman il miglior locale o il più influente o meno influente sono solamente degli incomi che fanno bene dal punto di vista morale alla carriera ma non sono nient'altro che delle gratificazioni che arrivano secondo dell'impegno che tu hai dato ma la vera gratificazione della vita è riuscire a combinare la tua vita di lavoro con la tua vita privata cioè ci deve essere un netto una consapevolezza che c'è sempre una riga da tirare nel mezzo dove c'è il lavoro e c'è la vita privata quando ogni tanto capita che una può sporare nell'emisfero dell'altra e viceversa ma quando una delle due sovrasta l'altra ovviamente ci sarà un problema o da una parte o dall'altra è normale lo so che è un po' ingarbugliato come ragionamento però devi cercare sempre di portare in linea massima la tua filosofia nella mia vita io ho avuto una ex fidanzata per 11 anni quando già facevo questo lavoro e ti dico che soffrivo perché gli altri erano giovani andavano a divertirsi potevano farsi il weekend e tutto io non potevo anche per te comunque questo mestiere ha comportato delle rinunce e ora sono sposato da altri tanti 11 anni con la mia con mia moglie felicemente almeno spero felicemente sono innamoratissimo di mia moglie cerco di dare il giusto spazio a entrambi il lavoro e alla vita privata e questa cosa è importante per far sì che si stia bene entrambi ovviamente la tua compagna o il tuo compagno a secondo di chi è dall'altra parte a casa o nel tuo letto devi essere consapevole degli impegni e dei limiti che tu hai che è normale che la sera tu lavori se già c'è maturità e comprensione tutte e due le parti sicuramente la cosa va benissimo poi io cerco di massimizzare anche quello che faccio il mio lavoro mi ha portato a la fortuna di poter viaggiare tantissimo tante volte soprattutto nell'ultimo anno mi sono concentrato nel dire ok mi stai ingaggiando per fare una masterclass una guest da te adesso andiamo in Mongolia per capirci in Mongolia io non voglio fee non voglio niente se hai uno sponsor si può pagare il volo a mia moglie siamo già a posto spesso volentieri faccio così ovviamente mia moglie non è che può seguirmi in tutto il mondo e posso farlo sempre però cerco di condividere una delle cose che io più amo che è viaggiare e provare delle esperienze che sono per me importantissime provare queste esperienze senza provarle con a fianco mia moglie è goderle a metà ho avuto modo di vedere i posti più belli tramonti più fighi le città le montagne e mari meravigliosi ma spesso e volentieri guardavo a metà quello che stavo guardando perché non avevo l'opportunità di poterlo condividere con la persona che amo perciò mi sono messo di impegno a cercare di portarlo il più possibile ovunque e in questi a dire la verità due anni stiamo andando via insieme almeno 5-6 volte l'anno vedendo posti meravigliosi Tokyo Seoul le Maldive adesso la Mongolia l'Europa in generale cioè mia moglie deve condividere quello che io sto vedendo perché sennò per me è solamente un ingaggio questi viaggi questo girare per il mondo ti ha ispirato nella tua creatività a livello di costruzione ha migliorato la mia percezione su quello che è la Barsin generale ma anche dal punto di vista delle tecniche o dell'affinamento dei gusti a me è capitato quando sono stato in Venezuela l'ho già detto è una cosa che ho già detto però quando sono stato in Venezuela ho partecipato facendo un'esibizione di Flair a una sessione di world class in Venezuela e ho visto sia preparazioni di drink sia ricette completamente diverse dalla nostra nel senso che io vedevo quelle preparazioni era il 2016 quindi tra virgolette avevo anche molta più stima di me nella mia consapevolezza di conoscenza di distillati dico è la world class vedere certe cose e invece poi quando sono tornati in Italia perché da noi sarebbero state cose fuori dal normale però poi maturando dico invece quello lì è perché sono dall'altra parte del mondo le cose le fanno diverse e dico a te questa cosa ti ha ispirato più che i cocktail a me quello che ispira è la gestione il modo in cui gestiscono il loro locale o come la cultura del popolo dove sono è abituata a bere e mangiare o a interagire o a fare qualcosa cioè ci sono cose che adesso non mi ricordo che paese l'esempio adesso mi spugio in qualità tra i vari paesi ero quando ho finito mentre facevo la guest ero a Johannesburg ero a Johannesburg in Sudafrica i clienti si erano infastiditi quando io ho tirato via il bicchiere vuoto del drink e poi mi hanno detto no guarda quella è cultura che non lasciamo sempre il bicchiere del drink che hanno finito sul tavolo fino a quando non richiedono un altro cocktail cioè invece per me è normale se è terminato di bere te lo porto via così ti libero esatto no in questo caso nel loro mondo nella loro cultura è tutto guarda è normale lasciagli pure il drink fino a quando te ne chiedono un altro fino a quando non chiedono il conto e vanno via come nella lo associo alla cultura americana del lasciami la bottiglia che da noi è una cosa se io mi siedo in un cocktail bar dico un whisky e io dico lasciami la bottiglia il bartender fa cosa non vuol dire lasciami la bottiglia e invece viene però lì ti dà un'idea vedere diverse culture del mondo e poi dov'è che tu cresci a parte che cresci a livello di apertura mentale di conoscenza e tutto il giorno in cui sai che ti viene al banco sudafricano piuttosto che un giapponese sai più o meno quali sono le tendenze culturali del popolo in cui vai perciò l'inchino il dare non lo so anche solo il biglietto da visita per i giapponesi in questa maniera come segno di rispetto quella non è crescere quella non è dal punto di vista migliorare e siamo sempre lì non è questo alla fine l'unica cosa importante è il tutto perciò ti arrivo da persona straniera e tu conosci i modi di fare le culture e di conseguenza ti adatti anche nel paese dove loro sono ospiti e questa cosa l'apprezzano mi è capitato con un indiano in un evento io sono stato in india a lavorare in un matrimonio un po' di anni fa e mi ricordo che facevamo un drink allo zenzero e noi mettevamo lo zenzero che per noi era la giusta dose e questi ragazzi indiani questi signori indiani fanno no no di più di più di più e mi ricordo che preparavamo delle cose che veramente al nostro palato erano impropolibili lavoro in un evento Milano-Berba mi ricordo dove di evento in cui l'organizzatore non l'organizzatore l'ospite dell'evento era indiano e ho azzardato questa cosa avevamo il drink ovviamente allo zenzero ho azzardato il fatto di aggiungere oltre al ginger beer ho aggiunto altro zenzero e l'ho pestato dentro e questo qua va dal dal pr dell'evento fa quel bartender lì è il più bravo che abbia mai visto in Italia che poi io alla fine cosa ho fatto ho messo un po' di zenzero e l'ho schiacciato però hai capito qual è che sono le loro basi culturali o di gusto e vedi questo che andando all'estero viaggiando ti confronti poi dopo il tecnicismo di fare un drink piuttosto che sì è importante ma è solo quel qualcosa in più che ti dà il modo di accaparrarti la fiducia e benestare in quel momento del tuo cliente che dice la prossima volta che torno qua vengo ancora a bere e magari questo qui torna tra un anno in Italia l'esempio palese venerdì sera arrivano due coppie dalla Svizzera a mangiare dalla Svizzera a Londri ok ci mettono quasi cinque ore a venire perché erano bloccati dalla neve mi arrivano alle 10 e 20 a mangiare io non avevo capito chi erano quando sono arrivati dopo mi si è sbloccata la memoria ti ricordi di noi siamo quelli che l'ultima volta eravamo seduti lì con la figlia e io ero un'ora perché lui parla italiano mentre la moglie sono francese ero lì a parlare al telefono per un'ora litigando al telefono e tu sei stato così gentile dopo che io avevo cenato a Spritz mi hai offerto uno Spritz per farmi tra virgolette rilassare e io ti promisi che sarei venuto giù un'altra volta con dei miei amici nella Svizzera li avrei portati qua solo per per ringraziarti a cenare da te questo è tornato si è fatto quasi cinque ore di auto è venuto ha mangiato un'ora e mezza è ripartito e è ritornato in Svizzera queste sono le vere soddisfazioni del lavoro perché c'è gente che si ricorda un tuo gesto che li ha fatti sentire bene in quel momento magari in cui non era proprio proprio a suo agio cacchio cioè questa è la soddisfazione del lavoro e così deve essere ieri sera tra clienti un spagnolo un francese forse era un tedesco vengono a cenare da noi e li abbiamo accompagnati come ovvio che sia parlando di tutto il menu in inglese e via dicendo i drink e tutto quello che è alla fine pagano mi dice ti voglio lasciare le tips e io gli ho detto guarda ti ringrazio lo so che è strano ma non c'è bisogno ma come ma io te le voglio lasciare se vuoi lasciarle le puoi lasciare però sappi che la mia soddisfazione stasera e vedere che voi siete stati super contenti di venire qua a mangiare e mi avete fatto tutta la serie complimenti per il servizio per il cibo per i drink poi se vuoi lasciare la mancia ma io ti dico che da persona da operatore io sono già soddisfatto la tips è la ciliegina sulla torta ma non lavoro per la tips anche se poi all'estero ti fa la differenza lo so non sono stupido però ero stracontento quella piccola cosa mi ha reso una serata perfetta anche dopo 30 anni le soddisfazioni ce le hai ultima domanda poi ti lascio andare progetti per il futuro come ti vedi tra un po' di anni cosa vorresti fare oddio oddio spero spero ma semplicemente perché poi comincio a diventare vecchio di non stare come ti ho detto prima fino a 60 anni dietro il banco bar progetti io tendo a non farli mai tendo a non farli mai perché l'esempio che continuo a dirti che dietro l'angolo ci saranno sempre delle belle sorprese io ci credo credo che comunque c'è un percorso per tutto che noi non sappiamo ma c'è un percorso per tutto non mi dispiacerebbe in un futuro ritornare ancora in un'azienda a rappresentare un prodotto anche se è impegnativo perché comunque è impegnativo fare il Global Ambassador ma non disegno appunto l'idea di ritornare per ora sicuramente mi piace essere ritornato alle mie belle origini farmi i miei drink vedere la soddisfazione sui miei clienti è una cosa che sto veramente adorando ma nessuno può sapere come vanno le cose tante volte ti fai progetti ma basta una piccola deviazione e tutto cambia perciò perché impazzire anche se poi è caratteriale credo che qualcosa salterà sempre fuori io cercherò sempre di farlo ok io ti ringrazio molto ti ho rubato più di due ore del tuo tempo che non sono neanche non le ho sentite nemmeno perché è stata una chiacchierata meravigliosa sempre bello passare una chiacchierata sono contento di averti conosciuto spero che da questa chiacchierata nascono tante altre connessioni ragazzi vi ringrazio tutti ci vediamo al prossimo episodio questo era l'episodio numero con il nostro Diego Ferrari grazie a tutti ciao a tutti ciao ciao